Allora cose da sapere per iniziare a utilizzare i dati, andiamo a guardare insieme qual è la struttura di tutto questo insieme di dati che sono dentro la piattaforma Open Coesione e dentro l'open data, andiamo a esaminare alcuni dei codici tipici che rendono questi dati più facili da mettere insieme ad altre fonti, tipicamente le fonti statistiche dell'Istat ma anche altre fonti amministrative, anche le fonti che vi ritroverete nei bandi della regione o del ministero che questi soldi vi gestisce e una serie di indicazioni su come interpretarli. La cosa forse più importante da capire è la seguente e poi la vedremo poi dal vivo insieme con Andrea o giocando con una serie di dati, la struttura dei dati. Abbiamo detto la piattaforma Open Coesione è incentrata sui progetti ricordatevi questa è una cosa molto diversa rispetto alle liste dei beneficiari che sono pubblicati sui siti tipicamente delle regioni e dei ministeri che gestiscono i fondi strutturali europei e che hanno degli obblighi di trasparenza che essendo delle liste di beneficiari sono delle liste di soggetti. Invece la piattaforma Open Coesione ovviamente fornisce informazioni sui soggetti ma privilegia tutta una serie di informazioni se non trovabili sui progetti. Ogni progetto ha un codice, lo abbiamo visto, ha il codice CUP. In realtà ogni progetto oltre ad avere il codice CUP che è un codice unico di progetto a livello nazionale, una sorta di codice fiscale di quel progetto ha anche un codice locale. Che cos'è il codice locale? È il codice con cui quel progetto appare nel sistema gestionale amministrativo dell'amministrazione che quel dato lo ha prodotto. È chiaro che ogni sistema informativo, ogni sistema gestionale di ogni regione per esempio che gestisce questi progetti ha una sua propria codifica oltre ad avere quella del CUP. A volte l'incrocio di informazioni fra il codice locale progetto e il codice unico del progetto, il CUP, è interessante perché ci permette di ricostruire i progetti che sono più complessi. Avete visto che i progetti possono essere molto diversificati a volte un gruppo di progetti con dei codici locali diversi appartiene allo stesso CUP, tipicamente nei progetti di ricerca dove i soggetti per esempio coinvolti sono moltissimi. Generalmente un progetto avrà un soggetto realizzatore ma a volte sullo stesso progetto insistono n soggetti realizzatori. L'esempio tipico veramente di questi progetti e ad esempio del PONREC sulla ricerca che avete geolocalizzato, quelli dell'università ad esempio sulla mappa del Moniton, nella maggior parte dei casi un progetto di ricerca sarà portato avanti da un consorzio di attori, magari un'università e una grande impresa, due dipartimenti universitari e tre imprese che lavorano insieme su un progetto di ricerca. N soggetti sullo stesso progetto. Quindi abbiamo delle questioni dimensionali di associazione. Poi altra cosa, un progetto sebbene nella maggior parte dei casi un progetto sarà associato a un unico comune, a un unico territorio perché si svolge lì, restauro del palazzo Ducale di Andria, no? È Andria, non è che sta in mille città quindi lì viene realizzato. Ma ci sono una serie di progetti che coinvolgono n località, n localizzazioni, n comuni pensate a una strada che collega due città e che attraversa altri cinque comuni. In quel caso il progetto coinvolge diversi territori. Quindi l'associazione che c'è fra un progetto e i luoghi dove quel progetto si realizza è un'associazione da 1 a n. Queste sono delle cose importanti da sapere per capire come mettere insieme i dati. Poi un altro elemento, siccome le informazioni finanziarie vengono aggiornate bimestralmente a ogni progetto sono associati n pagamenti. A ogni bimestre facciamo vedere l'avanzamento dei pagamenti di quel progetto. Quindi abbiamo ogni volta più informazioni. I pagamenti fino a gennaio, i pagamenti fino a marzo, i pagamenti fino a maggio e così via di seguito. Un'associazione di nuovo da 1 a n. I dati scaricabili. Vedremo oggi gli esempi che faremo di alcuni dati scaricati direttamente dal portale OpenCohesione. Ve l'abbiamo già fatto vedere. Puoi fare una query sulla lista di progetti sul sito e scaricarti quei dati che ti vedi sulla schermata. Quei dati sono un sottoinsieme della stringa complessiva di campi che esistono sul progetto. Detto in altre parole, OpenCohesione fa vedere soltanto un sottoinsieme dei dati disponibili sul progetto, perché sulla piattaforma non riuscivamo a far visualizzare tutto. Invece gli OpenData che ti scarichi direttamente, cioè i failoni che vai a scaricarti, hanno delle ulteriori informazioni che non sono tutte presenti sul portale. Sostanzialmente abbiamo per tutti i progetti che sono già in fase di attuazione, ovvero i soldi non soltanto sono stati affidati a un soggetto attuatore, ma sono anche in corso di realizzazione, stiamo iniziando a rintracciare per esempio i pagamenti e queste altre cose. Abbiamo circa 76 variabili scaricabili nei set OpenData direttamente sul sito del DPS. Solo 32 di queste variabili sono scaricate automaticamente dal sito OpenCohesione. Quindi attenzione, il sito di OpenCohesione vuole guidarvi a seguire i progetti, a rintracciare le storie interessanti, a vedere delle statistiche e vi consente direttamente su quelle query di tirar fuori alcuni dati. Ma per avere dei dati ancora più completi dovete andare sulla stringa complessiva del file OpenDataCVS sul sito del DPS. Per quanto riguarda quegli altri progetti che abbiamo visto dove prevalentemente abbiamo soltanto individuato il progetto sono delle assegnazioni del Cipe di finanziamenti del Fondo Sviluppo e Coesione, l'insieme delle variabili scaricabili sono un po' di meno, sono soltanto 22 perché appunto mancano tutta una serie di informazioni che ancora non sono disponibili perché il progetto non è ancora in fase di realizzazione o per un altro motivo, siccome questi sono dei soldi del Fondo Sviluppo e Coesione, non sempre sono inquadrati all'interno di un programma come poteva essere l'esempio del POR, del PON o dei PAC, dei piani di azione e coesione e quindi ci sono tutta una serie di informazioni tipo quelle che abbiamo visto, l'asse, gli obiettivi specifici eccetera eccetera, che in questo caso non sono pertinenti e quindi non sono rassegnate. Conoscere come funziona il codice unico di progetto in Italia è interessante per chiunque si voglia interessare di finanziamenti pubblici e in particolare di finanziamenti infrastrutturali perché è un codice che non c'è solo per i progetti che sono dentro Open Coesione ma per tutti gli altri grandi progetti infrastrutturali che noi finanziamo con le politiche nazionali. Il CUP deve essere inserito peraltro nei bandi di gara e quindi vi consente di fare degli incroci con le informazioni che provengono dai bandi di gara e deve essere rintracciato in tutti gli atti amministrativi che riguardano un progetto infrastrutturale in Italia ma anche gli altri progetti finanziati, ma diciamo che sulle infrastrutture in particolare ve li trovate. Sapere come è fatto il CUP vi è utile per desumere dal CUP direttamente una serie di caratteristiche del progetto perché come abbiamo detto una sorta di codice fiscale è una stringa alfanumerica di 15 caratteri e contiene direttamente delle informazioni sulla natura e la tipologia del progetto, per esempio potete individuare dai codici che vengono utilizzati direttamente se si tratta di una realizzazione di un lavoro pubblico piuttosto di un acquisto di un bene, di una concessione di un incentivo a un'unità, a un'impresa produttiva e così via di seguito. Un altro numero all'interno di questa stringa è una codifica del settore di intervento, uno è quello della localizzazione territoriale un altro della copertura finanziaria, insomma avete già dentro questo codice fiscale una ricchezza incredibile di informazioni. Per capire come interpretare la targa del CUP, il codice fiscale del CUP e avete tutta la manualistica dei codici che sono sul sito del Cipe che è il comitato peraltro della segreteria tecnica del Cipe che assegna nelle istruttorie i CUP ai progetti quindi questo può essere un universo interessante da esplorare per chi vuole fare delle classificazioni sui progetti perché già contiene un sacco di informazioni codificate. Come vi abbiamo detto nel caso di Open Coesione esistono dei progetti articolati che hanno un unico CUP ma tanti codici locali di progetto, tipicamente questi progetti della ricerca dove se siete interessati unicamente a uno dei beneficiari individuerete l'Università di Bari ma se volete sapere l'Università di Bari con chi lavora su quello stesso progetto, gli incroci tra CUP e codice locale vi consente appunto di rintracciare i progetti articolati su più beneficiari. La piattaforma Open Coesione per quanto riguarda le localizzazioni adotta un alfanumerico e un codice che è standardizzato, in particolare il codice ISTAT di Regione, Provincia e Comune. Anche questo ci consente tutta una serie di incroci più automatici, più puliti, è un'informazione da questo punto di vista molto più pulita, con una serie di dati territoriali da tutto l'universo delle statistiche nazionali italiane. Ma dentro le caratteristiche dei progetti di Open Coesione potete trovare anche una serie di altri codici che vi consentono di incrociare informazioni, per esempio i soggetti che sono delle imprese molto spesso hanno una descrizione anche settoriale che è una descrizione anche questa standardizzata, il codice ATECO delle attività economiche. Anche questo vi permette di fare tutta una serie di incroci interessanti. In teoria le scuole potrebbero avere, non sempre ce l'hanno, perché su questo ad esempio non c'è un obbligo, il meccanografico della scuola in cui il finanziamento avviene. Quindi invece di vedere i TIS, istituto tecnico, che ne so, cattaneo, potreste vedere anche il codice meccanografico di quella scuola che vi consente per esempio di incrociare le informazioni sul finanziamento che quella scuola ha ricevuto con i dati dell'elenco delle scuole e della loro localizzazione sul sito del MIUR, la scuola in chiaro. Questa è un'altra tipologia di esercizio interessante. A volte potete trovare dei riferimenti al CIG, il codice identificativo della gara. Questo pure è un altro codice standard che fa parte dell'insieme dei codici che noi abbiamo a livello nazionale concordato, standardizzati, che è rilasciato dall'autorità di vigilanza per i contratti pubblici, per tutte le gare d'appalto, per la tracciabilità dei flussi finanziari. Quindi per chi si interessa molto, come i nostri amici slovacchi, abbiamo visto, si interessa molto del voler sapere chi intercetta i finanziamenti pubblici, e quindi esplorare l'universo di questi codici potrebbe essere una modalità interessante. Allora qui su questa slide vedete una serie di riferimenti per andare a cercare altri insieme di dati che potrebbe essere interessante mettere in interconnessione con i dati di open coesione per cui già sono previsti dei codici standard, altri no, sono delle curiosità ma possono ispirare delle storie. Per esempio, qualcuno potrebbe essere interessato a incrociare i dati sui finanziamenti che arrivano a determinati comuni e quali sono i sindaci di quei comuni. Questo può essere una cosa interessante per un data giornalista. Capire se magari i comuni tutti di uno stesso schieramento politico hanno privilegiato un certo mix di investimenti sul loro territorio piuttosto che un altro. Magari sì, magari no. Questa però potrebbe essere una storia interessante, capire se i comuni che sono caratterizzati da certe appunto appartenenze politiche di maggioranza hanno privilegiato in questi anni certi investimenti piuttosto che altri, no? Allora gli amministratori locali del Ministero dell'Interno oppure ancora più politi da openpolitici.it vi consentono di fare questi incroci sui singoli comuni o anche sulle regioni. Esempi di storie, sempre spunti per dare delle idee su delle cose interessanti da fare. Ebbene, in tutta Europa, anche su altri fondi europei, c'è sempre stato un grande interesse per capire come vengono spesi questi soldi. Esistono altre iniziative parallele a quelle di open coesione. Questa, ad esempio, fishsubsidy.org, è una collezione dei dati che riguardano sostanzialmente le politiche di incentivo date nelle politiche comuni europee sulla pesca. potrebbe essere interessante. Interessante sono anche tutte le storie che derivano invece da farmsubsidy.org, una delle prime iniziative di grande raccolta di trasparenza di dati indipendenti che è stata fatta sulle politiche europee che riguarda la politica agricola comune, un altro grande pezzo del bilancio europeo e per questo che è sempre stato di grande interesse. Storie che sono nate proprio dal mondo del giornalismo. Una delle agenzie dell'Economist, il Bureau of Investigative Journalism e il Financial Times nel 2010 hanno fatto una grande operazione loro di raccolta dei dati sui fondi strutturali europei, questi per cui in Italia oggi non avrebbero più bisogno di raccogliere i dati, avrebbero soltanto bisogno di aggiornarli con un semplice clic scaricando gli open data, all'epoca non esistevano, e un'altra serie di storie di cui vi voglio far vedere un paio di visualizzazioni che possano ispirarvi. Per esempio questa è un'infografica abbastanza recente fatta dal Guardian di confronto internazionale, di confronto europeo sui fondi strutturali, questo articolo e questa infografica tipica del data giornalismo vuole rispondere sostanzialmente a questa domanda, da dove prende i soldi l'Unione Europea e come li spende, chi li spende, allora questa visualizzazione vuole insieme rispondere a questa domanda dando tante risposte diverse, intanto vedete nelle colonne rosse chi riceve, quali paesi ricevono questi soldi e quanti soldi ricevono, vedete nella parte del mio rosso, chi contribuisce al bilancio europeo, sono i vari paesi, ogni colonna rappresenta un paese, e magari chi non è molto avvezzo di queste politiche potrà rendersi conto che adesso se mi aiutate a trovare l'Italia, credo che sia, non si vede, facciamo più grande, zoom, adesso vedete meglio, probabilmente, sì, allora, ogni colonna rappresenta un paese, la parte in blu quanti soldi riceve dal bilancio europeo, la parte in rosso quanti soldi dà, e allora l'Italia, forse non tutti voi lo sanno, ma l'Italia è un paese che dà di più di quanto riceve, questo è su un determinato anno, su un determinato anno, perché è una grande economia dell'Unione Europea, l'Italia, ed è per questo che siccome si contribuisce con un per cento del proprio PIL, ogni Stato membro, essendo il PIL italiano, per quanto in declino comunque in termini di valore assoluto, ancora una delle grandi economie europee, allora contribuisce tanto, ha ricevuto, questi credo che siano dati del 2011, circa 9 miliardi e mezzo, e ha contribuito per 13,7, l'Italia è un contributore netto all'Europa, ovvero versa nelle casse del bilancio europeo più di quanto riceve. spenderli, diciamo, in qualche maniera a tutti, no? E allora, tutte queste informazioni vogliono in un colpo d'occhio dare tutta una serie di informazioni orientate sul problema europeo, in Europa, è studiata in inglese, è un giornale inglese di Guardian che fa questa visualizzazione e nel loro paese il dibattito è soprattutto orientato a dire che il Regno Unito dà troppi soldi all'Unione Europea, quindi molto di questo articolo e di questa visualizzazione è orientata su questo problema del dibattito e può essere questa una fonte di ispirazione per delle storie di data giornalismo anche in Italia. Un altro esempio, abbastanza recente, mentre quella è un'unica visualizzazione, ieri avrete visto di provare con Nicolas che nel data giornalismo esiste chi fa un'unica storia approfondita un'indagine giornalistica che come potrebbe essere un'indagine giornalistica ispirata dalle storie del Moniton, c'è chi fa delle visualizzazioni come questa, un unico articolo che con una visualizzazione vuole individuare e raccontare la storia di un problema ma c'è chi anche aggiorna una serie di dati per raccontare a livello macro ogni tot, la storia e vedere come si aggiorna. Questo è ad esempio il sito della BBC che ha un'inserzione su come vengono spesi i soldi in tutta Europa dei fondi strutturali europei e loro guardano delle categorie macro, fanno delle visualizzazioni sui settori di investimento delle politiche europee e poi danno delle informazioni per far vedere quali paesi stanno spendendo quali soldi e uno cambiando il settore può scegliere questi grafici di averli soltanto per esempio per un determinata classificazione ad esempio questi, mentre prima vi facevo vedere un istogramma con il totale qui è soltanto il sottinsieme di soldi che sono investiti ad esempio per la sicurezza e la criminalità e così potremmo guardare soltanto quelli che sono spesi sull'agricoltura naturalmente l'Italia cambia posizione all'interno della graduatoria così come gli altri paesi a seconda di qual è il settore che fa vedere sul totale dei finanziamenti piuttosto che solo sui pagamenti e quindi questo è un sito che viene diciamo aggiornato nel corso del tempo di anno in anno per fornire delle visualizzazioni standard che raccontano delle storie macro come le abbiamo definite sull'universo dei fondi strutturali europei ad oggi nel caso nostro dell'Italia su Open Coesione noi cerchiamo di restituire le informazioni sugli articoli che sono usciti che riguardano i dati di questo sito e vi devo dire che fino adesso pur avendo diciamo appunto tutta una una sezione della rassegna stampa sul sito che permette di collegare direttamente agli articoli che abbiamo rintracciato che ci sono stati inviati da vari utenti per annunciarci che su un determinato giornale una rivista online o cartacea era uscito un articolo che utilizza i dati di Open Coesione vi posso dire che la maggior parte degli articoli che sono usciti fino adesso raccontano più l'iniziativa più di quanto analizzano i dati che ci fa comprendere quanto c'è bisogno anche nel nostro paese di investire su le tecniche per poter elaborare questi dati da parte diciamo dei giornalisti o di chi scrive dei blog per poter analizzarli perché abbiamo molti più articoli che ci raccontano dell'iniziativa del principio della trasparenza che sta sotto questa iniziativa lodandola o criticandola qualcuno che ha anche trovato un problema di qualità di dati che ci ha aiutato quindi a trovare un baco e a correggerlo ci sono state diciamo diverse tipologie di articoli che riguardano l'iniziativa meno articoli che riguardano i dati che finalmente sono disponibili a tutti grazie a questa iniziativa andiamo a vedere gli esercizi che cercheremo di fare oggi insieme per diciamo dotarvi di alcuni strumenti di alcune competenze per essere voi degli scrittori di storie sui finanziamenti di investimento pubblico in Italia faremo dico brevemente una brevissima introduzione faremo due tipologie di esercitazioni una che riguarda delle storie diciamo sulle infrastrutture scaricando i dati dal portale perché sono dei dati più semplici e un'altra lavorando sui dataset più completi scaricati dal sito del DPS che sono più completi e che collegheremo con altri dati il primo esempio sarà di lavorare appunto tramite i dati scaricati su query sul sito di Open Cohesion sulle infrastrutture finanziate in Puglia e l'altro riguarderà invece i comuni che finanziano progetti per asilinito e andremo a vedere ad esempio la loro popolazione e una serie di altre cose guidandovi nelle elaborazioni vai Andrea va bene allora come ha detto Alin adesso passiamo a una parte un po' più pratica di questo workshop ed è una parte dove appunto vi richiedo di utilizzare alcuni software uno è Open Refine penso l'abbiate scaricato tutti e l'altro è LibreOffice o comunque un programma un foglio di calcolo che potrebbe essere anche Excel insomma fate un po' come vi sentite avete scaricato sui vostri pc queste cose comunque facciamo vedere Andrea dove uno si può scaricare Open Refine per chi magari guarda in streaming in modo che abbia la possibilità di fare un'esercizazione completa a casa sua Open Refine si scarica semplicemente dal sito openrefine.org c'è la sezione download ed è disponibile per tutte le piattaforme quindi è un software multipiattaforma open source gratuito accessibile a tutti la cosa diciamo che potrebbe dare un po' di problemi è il fatto che è un sito che funziona dentro il browser quindi bisogna anche avere un browser aggiornato per utilizzarlo io passerei direttamente alle slide e poi man mano andiamo avanti con l'elaborazione e la faremo assieme qui ho sintetizzato il workflow del data journalist una delle possibili tracce perché poi ovviamente ognuno ha il suo modello di lavoro però principalmente chi fa data journalist deve più o meno seguire questo percorso anzitutto se ha un'idea in testa comunque una domanda in testa deve andare a trovare e a prendersi questi dati in questo caso come abbiamo visto sappiamo già dove prendere i dati e ci rivolgeremo al sito di open coesione poi dovrà sistemare e pulire questi dati e questa parte non è assolutamente una parte da tenere sotto gamba perché come vediamo anche le fonti dati che spesso sono pulite sono trattate presentano al loro interno diciamo delle una grossa varietà di informazioni per cui è difficile difficilissimo spesso che queste informazioni siano omogenee poi queste informazioni questa grande quantità di informazioni va in un certo modo sintetizzata è rappresentata vanno prima analizzati questi dati scusate poi questi dati analizzati vanno sintetizzati e rappresentati questo perché al fine di raccontare una storia quindi di scrivere un articolo di data journaling sia che sia sotto forma di indagine oppure sotto forma di un articolo semplice di giornale tutto bene allora in questo caso come ha detto Alin la prima traccia che seguiremo è quella di analizzare le infrastrutture della Puglia prenderemo questi dati del sito di OpenQuesione come vediamo questa traccia è divisa in tre sottotracce quindi la prima parte che affronteremo sarà quella di esplorare quali sono i soggetti attuatori capire chi sta costruendo queste infrastrutture e quali tipologie di soggetti sono stati finanziati poi faremo una veloce analisi territoriale per capire questi soggetti dove si trovano nel territorio regionale e andremo a indagare su quali sono i dieci progetti più grossi quindi più finanziati a seconda del livello territoriale che abbiamo in mente quindi il nostro primo step è quello di trovare e prendere i dati come abbiamo visto andremo nel sito di OpenQuesione io ho fatto delle slide che sono più delle dispense per cui una volta tornate a casa voi potrete cercare di ripetere questo esperimento perché più o meno ci sono tutti passi quindi andiamo sul sito di OpenQuesione io adesso torno nella home e per quanto riguarda lo scaricamento un po' più piccolo delle infrastrutture in Puglia la prima cosa che faccio è andare a scegliere i dati che riguardano solo la Puglia io mi sposto soprattutto sulla mappa per cui clicco Regioni e ho diciamo una mappa per Regioni poi cliccando sulla Puglia posso entrare ai dati che riguardano la Puglia come abbiamo visto il sito di OpenQuesione presenta un'interfaccia dinamica interattiva per cui possiamo navigare facilmente tra i dati quello che ci interessa a noi è questa sezione è sulle infrastrutture quindi io andando a cliccare continuo a esplorare il sistema informativo di OpenQuesione e come vedete in alto posso scaricare i risultati di questa ricerca semplicemente cliccando su questi link in questo caso mi serve questo file che si chiama csv progetti csv è un tipo di formato penso che lo conoscerete all'interno del quale sono contenute le informazioni e come vedete questo csv sarà tutte le informazioni che avete più o meno su questo schermo per 3017 progetti che sono stati individuati come progetti di natura infrastrutturale in Puglia esatto quindi io adesso ho scaricato questo file qui 3017 progetti e lo devo importare in Google Refine e adesso faccio anche vedere un po' le slide qui riprendo tutto il percorso per cui se lo volete rifare a casa potete farlo qui dico anche come scaricare gli open data quindi tutta e tutte le informazioni tutti i dati che stanno dietro in coesione voi potete scaricarli andando su quel link quindi vi troverete in altri siti però poi cioè in realtà poi lo vedremo come vi ricordate direttamente dalla query sulla piattaforma quella che potete fare voi navigando in maniera interattiva il sito potete scaricare dei file che contengono informazioni su ciascun progetto pari a circa 32 o 36 variabili mentre se vorreste fare la stessa cosa assumendo l'insieme più completo dei dati dovreste andare a scaricare direttamente gli open data ma siccome gli open data in quel caso le query ve le dovreste fare da voi dovete avere una maggiore manualità all'interno di strumenti che vi consentono di fare la query qual è la differenza in sostanza che per selezionare Puglia infrastrutture qui dal sito avete meno informazioni ma lo fate molto semplicemente navigando il sito altrimenti dovete scaricarvi tutti i dati e andarveli a cercare voi esatto quindi abbiamo scaricato i dati adesso dobbiamo seguire il nostro primo step che è quello di esplorare i soggetti attuatori per capire chi sta costruendo queste infrastrutture e quindi dovremmo procedere anzitutto con una pulizia delle anagrafiche dei soggetti attuatori che come abbiamo visto prima spesso cambiano a seconda del nome che hanno poi faremo delle piccole statistiche come ad esempio la somma di euro per tipologia di attuatori e il conteggio dei progetti per territorio allora come detto il secondo passo è quello di sistemare e pulire i dati questo noi lo facciamo con OpenRefine OpenRefine come detto è un progetto open source che deriva da un progetto inizialmente finanziato da Google in seguito la multinazionale se ne è diciamo liberata perché ha altri progetti per la mente però ha rilasciato il codicino open source per cui una comunità sta portando avanti questo interessante progetto e a breve ci saranno nuovi aggiornamenti e che cose OpenRefine OpenRefine non è un foglio di calcolo con OpenRefine non potete fare delle operazioni come fate ad esempio con Excel non potete fare dei grafici ma è un software che serve per estrarre pulire sistemare ed esportare i dati nella maniera che desideriamo io adesso come detto abbiamo scaricato da quella query quel file delle infrastrutture e lo devo caricare su OpenRefine la cosa bella di OpenRefine è che non lavora direttamente sui file che noi diamo ma carica questi file in un progetto per cui in questo momento devo caricare quel file che ho scaricato in un progetto di OpenRefine e in questo caso vado sì su crea progetto e poi il progetto dice get data from l'abbiamo nel computer però volendo possiamo anche agganciarci a un URL quindi come diceva Alin nel caso ci sia qualche diciamo qualche sito qualche progetto che rilasci delle API quindi delle specifiche attraverso le quali connetterci a dei dati possiamo farle in automatico e tutti i dati di questo progetto verranno aggiornati man mano che il sito principale aggiorna quei dati oppure incollare degli appunti se vogliamo pulire dei dati con un copia e incolla veloce oppure questo Google Data si rifà al progetto di Google Docs però in questo caso noi dobbiamo prendere i dati che abbiamo scaricato prima quindi sono il nostro computer scegliamo i file io ce l'ho in scaricati voi ce l'avrete nella vostra cartella preferita il mio si chiamava progetti csv quindi lo apro e semplicemente una volta che gli do il link faccio next e lui cerca subito di caricarmi i dati prima cosa di OpenRefine come vedete lui prima di caricare questo file csv vi chiede delle specifiche del file anzitutto vi dice che tipo di file è lui riconosce automaticamente che è un file csv poi vi chiede quale tipo di separatore utilizza perché i csv sono dei file che per separare i dati al suo interno i campi al suo interno utilizza dei separatori in questo caso noi utilizziamo un punto in virgola siccome per lo meno nella mia versione non è previsto una una scelta automatica che ti porta a punto in virgola dobbiamo scegliere separatore opzionale quindi personalizzato e mettere punto in virgola in questo campo qua come si può vedere una domanda soltanto e questo cioè nel senso perché i csv di opzion hanno questo separatore sì hanno punto in virgola esatto quindi sempre per i dati scaricati di là dobbiamo usare il punto in virgola sì di solito è molto usato in Italia questo tipo di separatore è molto usato anche perché Excel automaticamente utilizza questi utilizzare il punto in virgola per separare i campi questo perché in Italia la virgola molte volte separa i decimali mentre in Inghilterra è il punto ok grazie il punto in virgola è una bella dritta secondo me comunque come vediamo la prima cosa anzitutto abbiamo un errore in questa preview di codifica sviluppo competitività questa la accentata è sempre un classico problema delle codifiche latine che però Google Refine ci può risolvere in maniera abbastanza veloce dobbiamo specificare con quale codifica è stato codificato questo file allora vi dico subito che nel 99% dei casi quando utilizzate dei dati provenienti da fonti italiane utilizzerete due tipi di codifica o la UTF-8 che è quella diciamo che al mondo è la più diffusa oppure soprattutto quando avete un problema con le lettere accentate questa ISO 8859 che come vedete è specifica per i caratteri latini quindi in questo caso io so che è questa la codifica in genere i siti che rilasciano open data oltre a specificare la licenza secondo cui questi dati possono essere riutilizzati nel caso dei dati di open coesione è cc by sa avete uno dei seminari all'interno di questo programma che parla proprio delle tipologie di licenze in genere avete anche delle indicazioni sulla codifica dei dati e vedrete su le fac di open coesione che è proprio l'ISO 8000 eccetera eccetera esatto quindi vi dico siamo ancora nella fase preliminare non abbiamo scusa una domanda dove non trovo dove dico questa cosa della codifica si character encoding ah scusami devi cliccare nel campo adesso riclicco e ti da una serie di scelte vi dico lui ci mette subito quelle più diffuse che sono queste poi volendo potete anche scorrere tra tutte le codifiche però vabbè lasciamo perdere questa parte e quindi questa latina è quella che dovrete tenere a mente non abbiamo ancora caricato i dati gli stiamo dicendo come deve caricare questo CSV nel progetto io anzitutto posso scegliere anche il nome questo nome a me non piace perché mi crea confusione in testa io voglio chiamarlo progetti infrastrutture quindi io uso l'underscore perché è sempre consigliabile utilizzare l'underscore e non gli spazi quando si tratta di lavorare su questi dati questo per un problema di riferimenti ai diversi dataset e quindi progetti underscore infrastrutture allora Paola sta chiedendo nuovamente i problemi relativi alla codifica dei dati quando vi carica i dati OpenRefine vi chiede lo strumento OpenRefine di specificare la codifica c'è proprio un campo quando voi cliccate su quel campo Character Encoding vi appare un menu di possibili codifiche standard tra cui scegliere in questo caso e nella maggior parte delle fonti che provengono dall'Italia e dall'Europa siccome noi utilizziamo caratteri latini nella maggior parte dei casi sarà ISO 88059 insomma la prima della lista ci cliccate sopra lo selezionate e così lo strumento Google Refine saprà che tutti i dati che si sta caricando nel file che sta creando li dovrà interpretare secondo quell'alfabeto esatto questa è anche chiamata la codifica per l'Europa occidentale per cui se non vi ricordate questa sigla potete di solito altri software utilizzano anche quel nome lì quindi abbiamo cambiato il nome il separatore è quello corretto perché è quello utilizzato del CSV che vogliamo ci sono altre opzioni con le quali diciamo non vi non vi sa spiegare perché perderemo un po' di tempo e quindi sono pronto per creare il progetto clicco su create project e il file in questo caso non è grandissimo per cui ci mette poco tempo sono come vedete 3.017 righe come ci aspettavamo il numero di progetti che ci diceva nella lista quindi l'importazione sembra non ci siano errori di codifica i campi ci sono tutti l'unica cosa che sembra strana in questo momento è che ci sono 3.017 righe ma io ne visualizzo solo 10 questo non succede ad esempio con Excel se voi caricate un CSV o un file tipico di Excel che ha 3.017 righe voi vedrete tutte 3.017 righe e questa è la prima differenza che potete notare tra Open Refine e Excel perché c'è questa differenza anzitutto l'approccio è completamente diverso ma è anche un problema di risparmio di memoria per non dover caricare tutte le righe e fare dei cambiamenti massivi perché Open Refine è pensato per fare dei cambiamenti massivi lui vi dice vi faccio vedere o 5 o 10 25 e 50 righe decidi tu di default mette 10 righe che sono diciamo assolutamente sufficienti per il nostro caso e vi spiego perché l'esplorazione all'interno dei file caricati in Open Refine avviene per un qualcosa chiamato Faceit cioè come se fossero le sfaccettature di un diamante voi potete navigare i campi cliccando sul menu del campo che vi interessa ad esempio io vado su questo DPS tema sintetico e clicco sulla freccetta che c'è proprio nel campo a sinistra e mi appare un menu questo menu sono tutte le opzioni e le operazioni che posso effettuare in questo campo quella di cui vi parlavo è la prima è il Faceit e ci sono diversi Faceit c'è quello pensato per il testo per il numero oppure per le date oppure questo fa uno scatter plot non ci interessa in questo momento testo numero e date dipende dal formato del campo sul quale siete in questo caso il DPS tema sintetico è un campo di testo perché contiene il testo e non dei numeri io clicco e come vedete a sinistra mi appare il Faceit dove tutti i valori che sono presenti in questo campo vengono rappresentati attraverso una distribuzione di frequenza cosa vuol dire è piccolo ok tanto posso anche zoomare e togliere lo zoom come vedete una distribuzione di frequenza per cui mi fa vedere tutti i valori che sono presenti e dentro questo campo con quale frequenza si presentano ad esempio agenda digitale appare 24 volte in questo campo e ambiente prevenzione dei rischi appare 450 volte e così via quindi come vedete si naviga in questo modo si inseriscono dei Faceit e si controlla che tipo di variabili ci sono all'interno dei campi diciamo che la visualizzazione per Faceit può essere sia come vedete per ordine alfabetico ma anche per ordine di conteggio e quindi maggiore la frequenza diciamo più in alto sarà la posizione della variabile in questo caso come vedete istruzione nel DPS tema sintetico è la variabile più frequente per quanto riguarda i progetti delle infrastrutture finanziati ma cosa ci permette di fare un'esplorazione con i Faceit ci permette di incrociare i diversi campi nel senso che possiamo aggiungere tanti Faceit quanti sono i campi ad esempio ho preso il DPS tema sintetico mi interesserebbe anche vedere non so un altro un altro campo come vedete sono tanti il soggetto ok soggetti e attuatori sono tanti allora adesso siccome sono tanti io credo se avessi sbagliato ci sei scaricato perché ho 5.000 righe quindi non ho capito allora probabilmente è stato un problema quando si è andata a scaricare e io perché ho preso quelli che avevo già scaricato non devo prendere quelli cioè dai link che hai preso gli open data quelli no devi prendere quello che si scarica ok il primo link che ho non importa puoi lavorare vado su però non ho tipo DPS questo nome qui il campo su cui stavi lavorando DPS tema sintetico sì non ce l'ho quindi penso di aver preso proprio un CSV sbagliato mi serve solo sapere quale allora tu possiamo tranquillamente rifare tutto il processo tanto ripetita io vanto sono ok io sono sui progetti 3017 ce l'hai ah ce l'hai ho la lista di open questione davanti quindi faccio un CSV progetto sì scarica CSV progetto hai scaricato un file giusto di CSV caricalo adesso in open refiner quindi per caricarlo che si può che rifare ah quindi faccio create project crea un progetto crea un progetto scegli un file su questo computer scegli proprio dove si chiama progetti apri next ok ci sono ci sei sta caricando ok hai 3017 devi inserire quale tipo di codifica ci sono ci sono ho fatto tutto ok grazie scusate allora come vedete io mi sono un po' perso perché sono tante le variabili nonostante siano 32 su 76 per me sono comunque ancora tante perché non conosco bene la banca dati non conosco bene tutte le variabili quindi mi perdo un po' open refiner permette di mettere un po' d'ordine in tutta questa diciamo in questa grande quantità di dati selezionando una colonna che non esiste nel CSV ma esiste nel progetto che è questa all che riesce a comandare tutte le altre colonne se io clicco su all e vado su edit columns posso riordinare e rimuovere le colonne che più come voglio diciamo nella maniera che più mi aggrada in maniera molto semplice semplicemente con un drag and drop io posso decidere di mettere in alto e vicine i campi che mi interessano di più oppure addirittura eliminare i campi che per questa elaborazione non mi interessano e penso siano ridondanti ad esempio io ambiti territoriali so che in ambiti territoriali c'è più che altro il nome della regione o di altre regioni non mi interessa facciamo un po' di pulizia e lo metto in questa colonna dove metto le colonne da rimuovere posso fare anche questo un po' con il QSN diciamo io tolgo un po' di campi perché tanto per questa elaborazione so che mi servono solo alcuni campi diamogli però un'idea forse di quello che c'è esatto allora vai su all queste 32 variabili che vi trovate a scaricare abbiamo detto ogni progetto è caratterizzato da un codice locale del progetto ogni progetto è caratterizzato dal suo CUP magari dato che noi stiamo indagando qui la nostra domanda a questi dati è quali sono i soggetti che intercettano questi soldi per le infrastrutture non ci interessa necessariamente tenerci due codici quindi possiamo togliere uno dei due poi il titolo del progetto magari questo ci interessa perché potrebbe contenere delle informazioni utili per capire di che cosa tratta il progetto il tema sintetico magari siccome noi abbiamo già selezionato cioè magari no questo ci interessa lo teniamo la natura del progetto l'abbiamo già selezionata abbiamo solo le infrastrutture vi ricordate sul portale vedete prima una torta per natura tipologia di natura e poi per tipologia di tema sintetico abbiamo selezionato solo infrastrutture quindi è inutile tenerci questa colonna poi tutte le colonne i campi che vedete che iniziano con fin sono campi che indicano il finanziamento quindi è il finanziamento UE il finanziamento del fondo di rotazione sarebbe la parte del cofinanziamento nazionale che accompagna quei soldi europei se andate sui metadati di open coesione c'è una descrizione puntuale che vi dice campo per campo ognuno di questi che cosa significa che cosa contiene e se utilizza una codifica standard quindi chiaramente vi conviene prima di lavorare sui dati stamparvi per esempio i metadati che vi consente di avere così una guida sotto mano di quali sono tutti i campi e scegliere quelli che volete tenere o meno allora non so i finanziamenti ce li dobbiamo tenere no li togliamo io lascerei solo quello totale che sarebbe finanziamento totale pubblico che riassume un po' tutti questi finanziamenti che sono divisi a seconda dell'interrogatore quindi togliamoci l'unione europea io tolgo l'unione europea e tutti gli altri a scendere quindi stato fondo rotazione FSC togliamo tutti regione provincia comune che possono mettere dei loro fondi ordinari lascerei però Andrea soltanto i finanziamenti dei privati perché siccome si tratta di infrastruttura può essere interessante lasciarlo quindi laddove soprattutto nelle infrastrutture ci possono essere dei progetti pubblici privati allora lasciamo magari l'indicazione di eventuali finanziamenti privati finanziamenti da reperire pure lo lascerei perché i finanziamenti da reperire per le infrastrutture può essere un'informazione interessante nel senso che noi possiamo sapere che un'opera costa di più di quanti sono i finanziamenti oggi già diciamo erogati a suo favore quindi lasciamo e ce lo magari può essere interessante magari oggi non ci interessa guardare i pagamenti di questi o si? Allora li togliamo in quale fondo comunitario avete visto tutte quelle informazioni sui PONI POR eccetera abbiamo detto che questo non ci interessa per il momento giusto quindi lo vogliamo togliere non so sulle date no le date non le abbiamo quindi le possiamo togliere perché qui noi siamo sostanzialmente vogliamo rispondere soltanto ai soggetti attuatori chiaramente poi queste informazioni queste altre le possiamo andare a riprendere quando vogliamo è solo per facilitarci oggi il compito esatto ricordo che non stiamo lavorando sul file per cui non stiamo cancellando niente stiamo lavorando su un progetto che prende i dati dal file quindi il file rimane così come l'avete scaricato quindi possiamo sempre recuperare quelle informazioni se poi cambiamo idea esatto puoi togliere anche i soggetti programmatori quindi scusa un attimo quindi praticamente io adesso sto scegliendo le colonne i dati su cui voglio lavorare però mi rimangono lì cioè io mi creo una specie di foglio di lavoro personalizzato però comunque i dati rimangono nel progetto no i dati dal progetto in questo caso non ci saranno più questi campi qua però rimarranno nel file e se tu vorrai integrare magari un campo non volevi cancellarlo poi è cambiato idea poi apri un altro progetto e fare un merge e riprendi i campi come vedremo più avanti che ti interessano e che hai ok quindi il contrario di quello che ho detto io in pratica cioè creo il file cioè il progetto è la mia selezione e il file rimane quello che è la fonte rimane inalterata ok rimane sempre su Refine quindi come avete pensato anche per interfacciarsi su un urlo un indirizzo ovviamente tu non andrai a modificare i dati che sono ad esempio in Open Coesime perché poi ti arrestano e quindi detto questo togliamo anche i progetti programmatori perché qui ci sono più che altro chi ha programmato gli interventi quindi in questo caso più che altro non chi ha speso chi ha attuato effettivamente il progetto e non appare nella domanda che ci eravamo fatte all'inizio ambiti territoriali e qui no no penso che possiamo andare a tenerci solo l'informazione su territori ci basta per l'esercizio per rispondere alla domanda che ci siamo posti ok quindi abbiamo fatto un po' di ordine sì ci siamo lasciati il codice locale progetto come avevamo visto il codice locale progetto è un codice più granulare cioè di solito ne apprende di più avremmo potuto tenerci l'uno o l'altro poco importa ricordatevi che siccome stiamo cercando di elaborare i dati questo vi vuole aiutare a gestirlo ovviamente sono tutti interessanti dipende che cosa ci devi fare dato che noi in questo momento stiamo cercando di guardare questi soggetti attuatori per facilitarvi l'elaborazione ci teniamo soltanto le informazioni che ci interessano ma tutte le altre ovviamente sono altrettanto importanti ma adesso il CUP in particolare non ci aiuta a capire in questo caso vogliamo lavorare sui campi dei soggetti attuatori ce lo puoi anche lasciare Paola non cambia nulla è soltanto per diminuire le colonne per essere più facile lavorare sui dati questo è perché scusatemi perché noi stiamo lavorando diciamo in qualche modo su un micro rispetto a quello su un campo cioè rispetto a quello che dicevamo prima se noi stessimo analizzando le infrastrutture nazionali ci conveniva lasciare il CUP invece in questo caso che stiamo lavorando più sulla Puglia ci conviene lasciare il codice locale perché ci possono essere perché qui dentro potremmo avere dei codici locali che provengono sia dal POR Puglia che da un PON sia da altri fonti finanziari quindi no non ha senso lavorare non lavoreremo semplicemente noi non lavoreremo in questa prima parte dell'esercitazione sul codice locale né sul CUP possiamo tenere indifferentemente l'uno o l'altro non ha alcun senso non siamo interessati in generale vi consiglio di lavorare sul CUP quindi se vi tenete un'informazione di tenervi il CUP in generale è perché è quello che vi dà più opportunità nel corso del lavoro poi di fare altre cose quindi forse è meglio effettivamente lasciare il CUP e togliere il codice locale del progetto questo prendi tutte e due allora così sei più sicuro poi l'ultima cosa se vogliamo avere anche un po' più di ordine mentale possiamo ordinare i campi in maniera personalizzata nel senso io personalmente mi trovo meglio quando metto l'ammontare dei finanziamenti sempre alla fine perché è proprio un fatto di ordine mio personale sono abituato a fare le somme sempre infiancata quindi io ho sposto i campi con un drag and drop dove più mi aggrada in questo caso io ho spostato soggetti attuatori e territori in mezzo e ho lasciato i finanziamenti alla fine questo diciamo agite come più credete quindi faccio un ok e come vedete come vedete ho molte meno colonne e quindi ho anche un progetto molto più comprensibile in questo caso guardate che la prima cosa che dovete fare quando volete utilizzare dei dati prima ancora di capire come elaborarli li dovete guardare un pochino adesso perché Andrea ed io li abbiamo guardati quindi sappiamo un po' abbiamo guardato la schermata rimettichela magari e abbiamo ingrandendo un po' abbiamo un po' guardato come sono fatti questa è una cosa che conviene sempre fare all'inizio noi l'abbiamo già fatto quindi sappiamo già prendi questo togli quello perché abbiamo già esplorato un po' i dati ma la prima cosa che vi conviene fare è un po' guardarli per capire quali sono le cose omogenee e quali sono quelle non omogenee allora vedete proprio questo fatto mentre il CUP è sempre fatto allo stesso modo è una codifica di 15 è una stringa di 15 alfanumerici fatta lo vediamo anche scorrendo lì proprio lo vedete vediamo anche un'altra cosa che qualcuno di questi progetti il CUP non ce l'ha c'ha solo il codice locale quindi buona è stata l'idea di Andrea di dire ci dobbiamo tenere anche il codice locale del progetto perché ahimè succede che per qualche progetto il CUP qui non ce l'abbiamo ce lo siamo persi e quindi abbiamo bisogno di un altro codice se dobbiamo andare a incrociare i dati quindi li teniamo tutti e due come vedete il codice locale progetto risponde a delle logiche diversissime non è mai della stessa lunghezza inizia in modo diverso no? quindi forse appartiene a delle amministrazioni diverse quindi non è buono per delle standardizzazioni queste sono le cose che dovete osservare nei dati prima di decidere come elaborarli poi vedete che il titolo a volte maiuscolo a volte minuscolo è scritto è lungo ha tante informazioni diverse il tema con i facet che vi ha fatto vedere prima Andrea capite subito che i temi fanno parte di una classificazione standardizzata sono solo un numero diciamo piccolo di categorie sempre uguali i soggetti attuatori qui iniziate a vedere che i nomi sono scritti in maniera molto diversa e quindi probabilmente sarà un campo da pulire i territori scoprite un'altra cosa interessante che i territori a volte sono una regione viene specificata la regione altre volte sono una provincia altre volte sono un set di province più di una oppure un set di comune più di uno quindi forse questo campo pure ci darà del filo da torcere e poi i dati sui finanziamenti e vediamo che su questi dieci abbiamo detto questo ve ne dà solo dieci su questi dieci ci abbiamo solo il finanziamento totale non lo so sui tremila se non abbiamo anche qualche altra informazione quindi ce la teniamo ok vi conviene sempre dare un'occhiata il motivo per cui ne visualizza alcuni è per aiutarvi a selezionare esatto poi lo strumento si presta molto bene proprio a questo tipo di lavoro perché come diceva Alin se io voglio vedere come si presentano i dati all'interno dei campi in questo caso io ad esempio scelgo i soggetti attuatori posso inserire un nuovo face it sempre di testo perché si tratta di un campo di testo e me l'ha messo qua giù come vedete qui non abbiamo più 13 scelte 13 categorie ma 513 questo già lo posso aspettare che non è una cosa standardizzata e guardate il diciamo il problema che avevamo evidenziato anche facendo una query dal sito di open coesione l'ANAS in questo caso abbiamo diciamo la ritroviamo in due tipi di valori uno è ANAS e uno è ANAS SPA però effettivamente sappiamo benissimo che riguardano lo stesso tipo di azienda questa è una cosa che l'occhio umano può individuare subito è un minimo di conoscenza sui soggetti attuatori ci può aiutare sicuramente cosa posso fare io decido che questi due tipi di valori sono uguali posso modificarne un altro come vedete appare tre volte ANAS scritto così e tre volte ANAS scritto in quest'altro modo se io dovessi fare questo lavoro con Excel dovrei andare a cercarmi queste celle e modificarle con Gorefine si fa molto prima io prendo queste celle prendo questa tipologia di valori clicco su edit e posso dire lo voglio scrivere ANAS come è scritto anche dall'altra parte faccio apply e come vedete adesso ho ANAS scritto come voglio io in maniera più omogenea abbiamo individuato tutti i soggetti attuatori che corrispondono all'ANAS però questo lavoro va bene quando c'è una piccola variabilità per quanto riguarda questo tipo di valori in realtà come vediamo sono tantissimi ovviamente i soggetti attuatori come ha detto Aline si presentano in maniera diversissima e per farlo Refine ha qualche carta diciamo molto interessante che riguarda la statistica cioè applicare un algoritmo statistico per normalizzare questo tipo di valori e questa funzione ci si arriva cliccando su cluster che come vedete ogni facet ha il suo cluster in questo caso a noi ci interessa clusterizzare cioè raggruppare dei valori omogenei negli stessi gruppi io clicco su cluster e come vedete ho anzitutto il tipo di metodo che sarebbe il tipo di algoritmo da applicare che collision è un tipo di algoritmo la cosa bella è che non vi fa vedere qual è l'algoritmo vi dice solo il nome per cui non dovete spaventare quando vi parlo di algoritmi sono semplicemente delle scelte che collision vi dice che è un tipo di algoritmo che va a vedere quali sono diciamo le chiavi simili in questo caso come vedete ha trovato autorità portuale di brindisi scritto tre volte in maiuscolo e scritto tre volte in minuscolo a me piace che sia scritto in minuscolo per cui per clusterizzare tutti questi dati che in questo caso sono tre più uno quattro sono pochi comunque clicco su quello che voglio io sulla scelta che scelgo io ok e mi appare mi dirà che tutte queste informazioni qua le ritroverò solo attraverso questo valore qua stessa cosa per l'università del salento e per la coedotto pugliese diciamo che questo cluster però io delle volte ho problemi di visualizzazione devo togliere lo zoom per farmi mostrare queste opzioni che ci sono in basse è un problema dello schermo che è piccolo se avete problemi dovete aiutarvi con lo zoom del browser posso dire merge quindi unisci questi diversi valori e reclusterizza quindi lui in questo caso chiudiamo lui mi ha sistemato queste 93 celle e le ha clusterizzate in quei tre tipi di valori però diciamo questo questo tipo di lavoro per questo dataset si rivela inefficace perché l'eterogeneità è elevatissima sono tantissime le aziende gli attuatori tra cui dobbiamo navigare e pur utilizzando altri tipi di algoritmi questo l'ha trovato Sanicardo scusami quindi per cambiare algoritmo lascio sempre key collision key collision è un metodo di algoritmo ok scusate diciamo che questo è una categoria di algoritmo ok quello che capite bene è che google refine ha questa proprietà che è particolarmente appealing per dei lavori di pulizia dei dati come quella che stiamo cercando di fare sui soggetti attuatori proprio perché ha già tutta una serie di motori di ricerca incorporati appunto questi algoritmi che consentono di trovare cose simili e così cercando le cose simili potete decidere voi con il vostro ragionamento e con l'occhio diciamo umano se quelle cose non debbano piuttosto essere uguali così sostituendo con l'altro nome senza saperne leggere né scrivere dato che voi dovete esplorare i dati ma non è che dovete diventare esperti di algoritmi di similitudini vi conviene su un dataset che sapete essere molto sporco provarli tutti come vedete Andrea cliccando su diversi key function oppure su diversi metodi trova nuovi raggruppamenti e potete vedere se vi convince quello che lui vi suggerisce di mettere insieme a volte non vi convincerà ad esempio comune di carosino e comune di corsano non sarei sicura che sia proprio la stessa cosa lui l'individua come molto simili voi probabilmente prima di decidere se sono la stessa cosa soltanto uno scritto con degli errori di ortografia e l'altro no forse dovete conoscere la geografia dei comuni pugliesi oppure non so vi chiederete di volta in volta vi appoggerete ad altri fonti per decidere tuttavia se per un determinato motivo a voi interessasse queste informazioni riclassificarle per separare soggetti attuatori che sono grandi imprese private da tipologie di soggetti attuatori ad esempio a voi non interessa sapere che comune è ma vi interessa sapere che in alcuni casi l'infrastruttura il soggetto attuatore è il comune indipendentemente da qual è questo comune allora magari in quel caso vi sarà utile decidere di sostituire tutti questi nomi comune di comune di comune di con un'unica etichetta comune oppure vedete ci sono delle arcidiocesi immagino lo andremo a vedere insieme che queste magari sono delle realizzazioni di lavori pubblici intorno a chiese o a cose di questo tipo restauri cose di questo tipo forse a voi non interessa in questo caso sapere se l'arcidiocesi di otrat o di tarato ma volete sostituire il valore google refine è particolarmente performante per questo tipo di ricategorizzazione esatto diciamo che quindi come dice Aline provando un po' tutti gli algoritmi alla fine dopo in questo caso un lungo lavoro si riesce a ottenere delle categorie che noi possiamo utilizzare in questo caso per un po' velocizzare il tutto io ho pensato perché non capire questi soggetti attuatori a che tipologia di soggetti appartengono vi faccio vedere anche dalle slide che anzitutto vi ritrovate tutti i passaggi vedete anche qua clasterizzo sottolineo che la clasterizzazione per questo tipo di pulizia di anagrafiche è inefficace per cui possiamo cercare di integrare queste informazioni su questi soggetti attuatori da altre fonti cioè è inefficace nel senso che non ci ha soddisfatto per rispondere alla nostra domanda ma questo è anche un po' normale i soggetti attuatori è normale che se i progetti siano tanti siano anche tanti diversi quindi c'è un problema di qualità del dato nel senso di assicurarci che due etichette che sembrano diverse non siano lo stesso soggetto ma anche molto probabile che qui intervengano nell'intercettare questi finanziamenti per costruire o per realizzare queste opere tanti soggetti diversi se noi quello che vogliamo innanzitutto fare è capire questi soggetti che tipologia di imprese sono oppure in che settore economico operano per fare una sottoclassificazione magari ci possiamo provare ad appoggiare a qualcos'altro che è quello che Andrea vi fa vedere adesso in questo caso a me interessava avere più informazioni su questi soggetti attuatori più informazioni che non avevo dalla query che ho ottenuto col file che ho ottenuto dalla query di OpenQuestione ma esatto come ho detto all'inprima esiste un'altra fonte che è quella di OpenData dove vengono scaricati tutti tutti i dati con tutte le variabili per quanto riguarda i progetti finanziati in OpenQuestione in questo caso esiste nella sezione OpenData un un dataset chiamato soggetti dove ci sono tutte le informazioni riguardanti i soggetti che siano attuatori o soggetti programmatori per cui ho pensato perché non andare a cercare altre informazioni da quel dataset per capire se riesco a raggruppare o comunque a creare delle categorie che mi fanno capire che tipo di soggetti hanno attuato quei progetti in questo caso decido quindi di aprire un nuovo progetto con OpenRefine con OpenRefine si può lavorare su più progetti contemporaneamente esattamente come su Excel potete lavorare su più file contemporaneamente quindi cliccando su Open io posso caricare un nuovo progetto in questo caso come vi ho detto mi interessa quel file sui soggetti che vi ho detto di scaricare è che dovrebbe chiamarsi precisamente soprattutto il file sul FESR soggetti Puglia quello scaricato dal dai link sì sul FESR c'era una data penso a posto di FESR ci fosse scritta la data di giugno 2013 qualcosa del genere ok quindi comunque il file sui soggetti lo caricate sì ok allora se io l'ho rinominato non so perché di notte lo per aiutarmi un po' per capire che era gli diciamo ci sono quasi tutti i soggetti comunque abbiamo delle informazioni assolutamente utili quindi faccio la stessa procedura che ho fatto all'inizio lo carico lo apro in questo caso è sempre un csv separato da punte virgola sì scarica i dati completi sul sito del vai su open coesione vai in fondo scarica i dati completi qua su open coesione scarica i dati cioè sostanzialmente Andrea insoddisfatto di quello che ha trovato sui primi dati che si è scaricato si è andata a chiedere ma dove trovo delle informazioni in più su questi soggetti dopo che le ha un po' esplorati ha capito che sono tanti e che non è facile categorizzarli allora ha pensato so che esiste un file specifico e ci sta andando che mi dà tutte le informazioni possibili sui soggetti quelli che mi sono presa dal sito sono troppo pochi fammi andare a vedere che cosa c'ho di completo nel fare questo in realtà Andrea si sta scaricando i dati su tutti i soggetti attuatori ma si sta limitando a considerare quei soggetti attuatori che intervengono in finanziamenti che riguardano il POR Puglia per farvi questo un esempio ma in realtà dovrebbe scaricarseli tutti perché come abbiamo detto nei finanziamenti nella nostra prima ricerca noi siamo interessati a tutte le infrastrutture della Puglia indipendentemente da chi le finanzia quindi adesso per aiutarci nell'esemplificazione lui ha scaricato solo il POR Puglia ma noi se volessimo godere al massimo di tutte le informazioni dovremmo scaricarci tutta Italia diciamo che anche se non ci sono tutti i soggetti attuatori che compaiono in quei progetti lì però abbiamo già un'integrazione di informazioni che ci permetterà di pulire meglio le anagrafiche quindi questa può essere anche un'esercitazione per noi non riusciremo a trovare tutti i soggetti perché come dice Alin non tutti i soggetti che hanno partecipato che sono degli attuatori dei progetti finanziati in Puglia sono soggetti pugliesi però no scusa giusto perché sia precisa la individuazione noi abbiamo selezionato prima dei progetti che succedono in Puglia si realizzano in Puglia sul territorio pugliese questi progetti possono essere finanziati da tanti finanziamenti diversi dal POR Puglia come da PON come da fondi di sviluppo e coesione poi ci siamo detti le informazioni che ho sui soggetti non solo sono un po' sporche con Google Refine mi aiuto per pulirle ma ho scopro che non c'è esattamente l'informazione che volevo perché ero interessata più a capire che tipologia di settori sono i settori delle imprese che intervengono e così via di seguito allora mi vado a prendere i dati che abbiamo sui soggetti i soggetti sono organizzati per territorio per PON tu hai preso quelli del territorio per regione stai a posto non sono quelli del POR Puglia sono tutti i soggetti che intervengono su quel territorio se avessimo selezionato nella query cosa che si può fare tutti i soggetti che hanno intercettato finanziamenti del POR non necessariamente abbiamo un merge totale perché capite il progetto in un posto può essere provenire da diverse fonti finanziarie quindi dipende stiamo guardando il territorio o stiamo guardando il contenitore finanziario quindi credo che Andrea in realtà si sia scaricato Puglia come territorio e allora ce li ha tutti i soggetti che intervengono in Puglia l'ha chiamato POR ma in questo diciamo se non è il POR è tutta la Puglia e lì dentro ci sono finanziamenti che provengono da diversi finanziatori ci sarà il POR Puglia e ci saranno altri sì comunque è un diciamo una nuova fonte che mi può dare ulteriori informazioni sui soggetti quindi non so se l'è scaricata il file ok quindi come ho detto vado su quel progetto io ho notato che ci sono dei problemi di codifica che non riesce a risolvere perché delle volte ci sono molti passaggi la codifica si perde però in questo caso non ci preoccupiamo andiamo avanti comunque e risolveremo questo problema in un altro modo per cui io vado avanti prima di andare avanti però devo dargli un nome preciso questo perché sempre perché voglio avere le idee chiare ma anche perché dovrò fare un merge quindi dovrà essere un nome semplice da ricordare e da su quale interlacciarsi lo chiamo soggetti Puglia underscore sempre ok esatto creiamo il progetto questo è un po' più grosso perché qui non ci sono solo i soggetti che intervengono in quei progetti ci sono tutti i soggetti che intervengono sul territorio pugliese con dei progetti del territorio pugliese allargando un attimo diciamo lo schermo vediamo che tipologia di informazioni abbiamo sui soggetti in generale come sono organizzati i campi allora di ogni soggetto c'è l'indicazione a quale progetto contribuisce no questo sarà il codice che ci consente di fare il merge con gli altri dati ed è il codice locale del progetto c'è una codifica che ci dice uno o due che è scritta dopo in italiano a parole che ci consente di sapere se quel soggetto è un programmatore ovvero è la responsabilità per la gestione e la programmazione del progetto o è l'attuatore è colui a cui sono stati affidati i soldi per realizzarlo ok poi ci sono una serie di altre informazioni che sono relative a eventuali codici fiscali o partita IVA che abbiamo di quel soggetto la denominazione di quel soggetto ovviamente ci sono qui dei soggetti sia pubblici che privati che sono coinvolti in questi finanziamenti o come gestori o come realizzatori poi c'è un codice che individua appunto la forma giuridica di quel soggetto scusate io posso sempre esplorare con i facet ricordo che stiamo lavorando su 93.000 righe in questo caso se voi avete aperto questo file con Excel penso che non fosse che andate a meno che non avete un buon computer però l'agilità con la quale può lavorare sui grandi dataset refine come vedete queste tutte le forme giuridiche sono tantissime anche in questo caso però perlomeno qui appartengono a una codifica standardizzata quindi ci sono problemi di pulizia per i dati perché malgrado il formato ISO in realtà qualche volta la lettera accentata è saltata quindi vedete che comunità montana è scritto strano questo lo potete invece pulire molto efficacemente con Google Refine andando a fare edit e sostituendo automaticamente ovunque con il carattere che volete voi altre informazioni che abbiamo su questi soggetti sono il comune dove è registrato il soggetto questo vuol dire che si tratta di un'impresa diciamo la domiciliazione dell'impresa delle informazioni di questo tipo a volte addirittura l'indirizzo di dove si trova a volte no il cap a volte si a volte no un altro campo interessante che è il codice Ateco Istat che è un codice di nuovo di questi standardizzati che ci dice il settore economico in cui interviene l'impresa con una descrizione quindi avete sia la codifica su cui è più facile lavorare perché non ci sono problemi alfanumerici sia per voi per capire di che si tratta una breve descrizione e credo basta quindi avete varie caratteristiche su questi soggetti quindi ah ho sbagliato qua qua rispiego un po' come effettuare un merge quindi come ho detto per avere informazioni dal dataset dei soggetti voglio avere delle voglio cioè per avere delle informazioni in più sul dataset dei progetti voglio prenderle dal dataset dei soggetti che è più completo da quel punto di vista e quindi devo fare un merge cioè devo interfacciare questi due dataset cosa mi serve per fare un merge anzitutto mi serve un campo chiave c'è un campo che questi due dataset hanno in comune come diceva Lynn questo campo l'abbiamo individuato in codice locale progetto ce l'abbiamo nei due dataset abbiamo il codice locale progetto da una parte ce l'abbiamo dall'altra quindi quel codice lo possiamo utilizzare per mettere insieme questi dati diciamo è un codice univoco quindi identifico univocamente quel progetto lì e poi mi serve un campo o una serie di campi che mi interessa prendere in questo caso era interessante prendere la descrizione a teco del soggetto quindi in quale campo economico opera diciamo che per farlo torno al dataset iniziale e faccio una cosa cioè progetti esatto scusate quello iniziale progetti cioè quello su cui stiamo lavorando in realtà questo qua è una cosa in più che poi chiuderemo sul quale non opereremo più avanti quindi vado sul campo chiave che è quello che hanno in comune i due dataset e faccio una operazione questa è la prima operazione che vi faccio vedere e purtroppo è anche un'operazione che richiede del codice però non spaventatevi questa operazione lavora sulla colonna e devo aggiungere un'altra colonna che si basa su questa colonna l'altra colonna che voglio aggiungere che si basa su questa colonna è il codice ATECO dei soggetti quindi io voglio aggiungere una colonna che si basa sul codice locale progetti dei progetti vi è chiaro questo passaggio che sta facendo vedere come si mettono insieme dati che provengono da diversi file sostanzialmente allora la prima cosa devono avere una colonna con la stessa informazione perché se no come facciamo a metterli insieme abbiamo visto che per fortuna tutti e due i file hanno il codice locale progetto e quindi possiamo basarci sul codice locale del progetto per importare sostanzialmente dal file soggetti le informazioni che vogliamo e metterla nel file progetti esatto come detto purtroppo Refine per fare questa operazione richiede del codice in realtà è un codice abbastanza semplice da usare e conoscendo anche a memoria due o tre funzioni voi potrete fare più o meno tutto il lavoro di pulizia può andare avanti molto tranquillamente e una di queste funzioni vi faccio vedere sì infatti questa la chiudo ecco qua è la faccia triste perché stiamo usando il codice e questa funzione qua cell cross cioè io prendo un dataset il suo campo chiave e poi decido quale campo da prendere da quel dataset ok vi faccio vedere un po' una breve formula per chi sa lavorare su Excel questa è l'equivalente di una formula su Excel che si chiama cerca verticale dove si danno delle informazioni su quali sono sostanzialmente nei due file il campo chiave che deve macciare per poter unire le informazioni esatto diciamo che io vi ho scritto la formula qui come è per cui voi potete copiarla e semplicemente sostituire i grassetti con il nome del dataset che volete prendere il campo chiave e il campo da prendere una volta che vi esercitate un po' apparirà tutto più semplice poi c'è questo 0 qua che diciamo è una cosa a cui informati ci piace molto quindi adesso devo adesso io non la riscrivo da capo perché l'avevo già usata si dentro si no edit torno indietro da edit column devi scegliere quando sei sulla colonna che è il campo chiave devi scegliere l'operazione da fare allora vado sul campo locale progetto che è il campo chiave edit column si add column base it on on this column aggiungi una colonna basata su questa colonna e poi gli devi dire però come quindi dentro espressione gli devi scrivere la formula di che cosa si deve andare a prendere esatto io allora faccio vedere un po' una cosa l'avevo riutilizzata come vedete in refime potete riutilizzare delle formule che avete già utilizzato per cui non dovete per forza imparare il codice bene potete riutilizzare delle formule che avete già utilizzato in passato oppure addirittura mettere tra i preferiti esattamente come i preferiti del vostro browser no questa è una delle mie formule preferite la richiamo attraverso questo esempio start le formule che io ho salvato uso di più esatto e come vedete qua si va su preview per vedere l'antiprima della formula lui mi dice è sbagliata questa formula perché nome dataset non vuol dire niente campo chiave non vuol dire niente campo da prendere non vuol dire niente devo sostituire questi nomi coi nomi dei miei dataset quindi se il cross che come dice l'in è uguale al cerchio verticale di excel devo dire da quale dataset voglio prendere le informazioni il dataset come vedete si chiama soggetti puglia io faccio qua doppio clic lo copio addirittura e quindi nome dataset soggetti puglia e lo metto qua campo chiave il campo chiave è quello su cui sono sopra ed era il nostro codice locale del progetto qui abbiamo la fortuna che nei due dataset il campo chiave è addirittura allo stesso nome però potremmo trovarci di fronte a due dataset magari che provengono da fonti diverse questa è la stessa ponte ma da fonti diverse che hanno un nome diverso quindi qui vi permette di specificare il nome adesso la cosa che ci interessa di più il campo che vogliamo prendere e il campo che vogliamo prendere in questo caso era il codice ATECO quindi il campo si chiama descrizione un attimino descrizionate questo oggetto io lo copio sempre faccio CTRL C che mi semplifica la vita e lo incollo qua CTRL V e guardate sotto nel preview vi fa vedere che cos'è riuscito a fare con la vostra formula sta eseguendo dandovi un'anticipazione o un'anteprima del risultato dell'applicazione della vostra formula come vedete alcuni soggetti non li ha beccati però qualcuno non ha beccato vuol dire anzitutto che la formula ha funzionato e non ho sbagliato niente nella sintassi e vuol dire che semplicemente dovrò continuare a lavorare per prendere anche gli altri però come vedremo quando eseguo la formula avremo un bel risultato siccome la funzione che ho dato all'inizio era aggiungi una colonna basata su questa colonna Refine vorrà aggiungere una colonna e quindi lì devo dare un nome e io chiamo Ateco la chiamo semplicemente anzi la scrivo maiuscolo perché Ateco quindi io creerò una colonna chiamata Ateco basata sulla colonna codice locale del progetto e che sarà un merge col dataset dei soggetti se ci siete l'eseguo se no vado Paola come va Chiara che ti ok mi manca il pezzettino che pezzettino ah ok che continua la leggi bene si no finché non finisci non vado io la faccio con un shift che serve maiuscolo più è accentata e poi maiuscolo più una volta che avrai fatto la fatica di scriverlo per la prima volta lui ti conserverà questa formula dentro history esatto e quindi potrai semplicemente riutilizzarla ricopiandola andandola a selezionare oppure da history le posso aggiungere la stellina e quindi la puoi mettere anche tra i preferiti quindi diciamo che è all'inizio la cosa più difficile e quindi io clicco ok anzitutto ho fatto un merge su 93.000 righe e me ne ha preso 2.100 voi direte poco no erano 3.000 le righe in realtà scusate quindi me ne ha preso un bel po' 2.100 qui c'è soltanto il portuglia in quello che hai scaricato tu esatto però non ci importa l'importante è che ci abbia dato diciamo un aiutino per quanto riguarda il nostro lavoro di di standardizzazione delle informazioni come vedete se io vado su Ateco e faccio partire un text facet vado giù mi ha trovato tre tipi di Ateco non ti ha funzionato se vuoi lascia anche la formula è questa grazie a tutti Grazie. Il progetto descrizione ad eco-soggetti. Fa vedere come si chiama l'ambiente del campo? Si chiama proprio descrizione ad eco-soggetti? Dentro soggetti andiamo a dividere. Tu la capiscono in colla in colla? No, descrizione ad eco-sogge. E il nome del dataset? Ah no, questo è il maiuscolo minuscolo. Non sintetzerro, però effettivamente non ti ha trovato. Potrebbe, il nome del dataset è il soggetto di Puglia ed è scritto anche... No, è scritto giusto. Codice, lo cari progetto. Sì, non ti ha trovato nulla, te lo dice già qua, che non aveva senso fare. No, perché questa non è una quadra. Questa non è una quadra. Eh no, è una quadra. Ti manca, facendo una cittura? No? Chiusa, chiusa. Non ti sentire, ma non è una quadra. Non è una quadra. Non dovrebbe essere una quadra. No, ma non è una quadra. No, ma non è una quadra. Eh, dovevano... Eh, dovevano... Eh, se sono qua, tra i loro... Ah, ecco, sì, poi magari non le più volete. Eh... Cosa è la mia, c'è 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 la mia... Ma è una quadra. Ok, quindi, viene trovato. Fa ok, adesso vi lascio. Ok, diciamo il nome. Anche tu non è un mondo. No, non è una quadra. No, non è una quadra. Le virgolette ovviamente identificano il nome del campo, per cui quando voi inserite un nome, di solito quando mettete un codice, le virgolette sono sempre necessarie. Quindi, se andavo su... Ok, ho inserito il facet su Ateco, sul nuovo campo che mi ha creato, e come vedete mi trova tre tipi di categorie, più 872 valori per cui non ha trovato niente. Ti mancano delle quadri o ti mancano delle figurette? Ma no, quello ce l'ho fatta bene. Ma qui sto io? Lo rifacciamo da dopo. C'è da? Da qua. Ah, però scusami, no, perché l'hai inserito, tu l'ho sbagliato, tu volevi andare su infrastrutture, non sui progetti. E' in progetti che puoi aggiungere questa informazione. Ok, allora mi rifare quello che ho fatto in mezzo. Qua. Codice notale, Eri, corona, aggiungi una colonna basata su questa, vai su list, non si può mettere a teco, non si può mettere a tec, non si può mettere a tec, non si può mettere a tec. Non si può mettere a tec. No, tu lo stai mettendo a tec. E vedi che te la carica? Vedi che te le sta mettendo? Ah, è niente. New column name, dove le puoi andare a mettere? In a teco o a teco 1, vedete il soggetto di tec. La loro notte viene a scrivere da a teco 1 o di mezzo. A teco 1 o di mezzo. Sì, se lo vuoi. Sì. Ok, dai dei dei progetti, vediamo il posto. A teco. Fai così, fai a teco, corona, parte. Tec, parte, perché c'è questo. La formula era giusta all'inizio. Infatti te la visualizza bene, perché dimostra che mi sta formando. Comunque, adesso stiamo effettuando un merge con OpenRefine tra il dataset dei progetti e il dataset dei soggetti. Abbiamo utilizzato una formula del GRR, che è il codice che utilizza OpenRefine, che si basa su Python, credo. e comunque andando a continuare a esplorare il dataset, vi faccio vedere una cosa che poi riprenderò più avanti. Anzitutto, i dataset si possono chiudere, però io posso anche utilizzare i dataset come filtri. Per cui, se io voglio prendere solo i progetti che riguardano l'istruzione, quelli sono 853, basta cliccare su istruzione e come vedete in alto qui ho 853 righe visualizzate. Questo vuol dire che mi ha selezionato solo le righe che riguardano i progetti finanziati che riguardano l'istruzione. ma posso anche includere altre categorie, ad esempio, posso prendere Ambiente e Prevenzione dei Rischi oppure posso prenderli tutti e due cliccando su Includi eccetera eccetera oppure posso fare anche il contrario dicendo Escludi no, scusate. Posso fare il contrario cliccando su Invert e li prende tutti tranne quei due. come vedete li sbarra proprio. Non lo trova? Io riscrivo e vi faccio vedere anche la formula. No, la formula è giusta. È giusta? La formula è giusta. La resce non fa riservare nulla. Quindi io sono un po' quello che non capisco perché sia una selezionata è giusta di streaming. Mi dico che lei parte già è giusta di una cimera. È perché lei ha selezionato solo Acquedotto Pugliese ecco dov'è il problema. Ah, dove ho avuto l'efficacelezione. Esatto. Questo non ve l'ho spiegato all'inizio l'ho spiegato proprio adesso che selezionando sui Faceit vi fa vedere avevi visto solo una restrizione. Quindi adesso sicuramente sarà un po' non è giusta. Pugliese si fa un po' poi non c'è l'hanno si è arrivata ecco due vedi che lei trova il problema che stavi selezionando è ok 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 Quindi, allora, ho individuato tre categorie, come vedete, inserendo il facet nel campo a Teco, individuo tre categorie che hanno un problema di codifica e che sono principalmente attività e organi legislativi, esecutivi, centrali e locali, in poche parole, sono le amministrazioni, poi attività e servizi connessi al trasporto aereo e poi regolamentazione degli affari e servizi concernenti i trasporti e le comunicazioni. Oltre queste, non ne ho trovato 872. Cosa fare anzitutto? Dobbiamo semplificare, dobbiamo cercare di capire e sintetizzare le informazioni. Quindi, io cambio direttamente il nome a questi 2128 progetti. Andiamo a vedere che tipo di roba c'è dentro quella categoria, così sappiamo come la vogliamo categorizzare. Esatto. Diciamo che per navigare nel dataset, come vi ho detto, si può utilizzare il facet come filtri. Per cui, se io inserisco, ad esempio, un facet anche per quanto riguarda il nome dei soggetti e attuatori, posso tranquillamente vedere quali sono, filtrando in maniera gerarchica attraverso quelli di un altro campo. Ad esempio, è molto più facile farlo vedere, se io seleziono attività dei servizi connessi al trasporto aereo, ho 3 soggetti e attuatori. Se vado a vedere nel facet di sotto, no, me li ho più selezionati. Per selezionare deve diventare rosso, eh? Esatto. E ho Aeroporti di Puglia. E basta. In questo caso 3 progetti che riguardano, se voglio vederli nello specifico, vado direttamente nel dataset. 3 progetti che hanno questo tipo di finanziamenti. Volendo, posso anche vedere quali sono queste delle regolamentazioni degli affari e dei servizi concedenti ai trasporti. E vedo che sono soprattutto le autorità portuali. E l'ANAS. E anche la regione Puglia, che però, vabbè, in questo caso c'è entrata così. Allora, uno qui vorrebbe andare a indagare meglio, no? Quindi per alcune cose ci riconosciamo, per altri no. E allora in questo qui, dove la regione Puglia è risultato così, lo possiamo selezionare e possiamo decidere anche di cambiare classificazione se noi vogliamo tenere da parte tutte le amministrazioni pubbliche. E quindi potremmo decidere per quel record lì di cambiare l'informazione, proprio stiamo facendo un esercizio di ricategorizzazione come vogliamo noi, quindi l'informazione non si presenta sempre e per motivi di sporcizia e per motivi del fatto che utilizza altre classificazioni non si presenta sempre come la porremmo noi. Analizzandola, postiamo tramite ad esempio Google Refine a portare quei cambiamenti che ci consentono di categorizzarla come vogliamo. Allora, regione Puglia, noi vogliamo farla risultare tra le amministrazioni pubbliche nella nostra classificazione, quindi cambiamogli solo per il record regione Puglia l'etichetta che ha ricevuto e invece di chiamarla regolamentazione degli affari concernenti il trasporto, chiamiamola in un'altra maniera, per esempio amministrazioni pubbliche. Quindi io posso editarla direttamente da qui, come vedete bisogna stare sempre attenti a quali facet si è selezionati perché continuando a selezionare il filtro diventa sempre più dettagliato e va bene se vogliamo lavorare solo su alcuni campi. In questo caso lui mi dice che sto lavorando su una riga, ce l'ho ben presente qua. Quindi io scrivo amministrazione perché secondo me questa è dell'amministrazione pubblica e faccio apply. Quindi è cambiato solo per quel record l'etichetta. Adesso se l'andate a vedere, Regione Puglia c'ha etichetta di più organo di regolamentazione quanto amministrazione pubblica. Noi vogliamo infatti la Regione Puglia assimilarla come soggetto a tutti i soggetti che erano nella prima classificazione a TECO. Esatto. Per tornare indietro, se volete tornare alla situazione iniziale, io vi consiglio di cliccare su questo tasto Reset All. Vi resetta tutti i Facesit, quindi tutti i filtri che avete applicato e potete vedere tutto il dataset. Quindi Reset All. Prendiamo di nuovo 3.017 e non una. Esatto. Noi abbiamo 3.017. Vado nel Facesit degli Ateco e vedo che abbiamo aggiunto amministrazione pubblica, che però è l'unico codice che abbiamo per ora categorizzato. Ovviamente amministrazione pubblica rientra nel codice Ateco attività degli organi legislativi ed esecutivi centrali, per cui modifico tutti questi due. In questo momento ne sto modificando 2.128, scrivendo amministrazione. Questo Ateco, che sarà stato ritrovato per questi soggetti, probabilmente caratterizza i vari che abbiamo visto prima, comune, provincia, quando quello è il soggetto attuatore. A me interessa distinguere dalle amministrazioni pubbliche da altri soggetti e quindi adesso li riclassifico tutti come amministrazione pubblica. Poi ad esempio, questo nome è un po' lungo, che è attività e servizio connessi al trasporto aereo, ho visto che ci sono solo gli aeroporti, io per semplificarlo semplicemente posso scrivere Aereo, aeroporti, giusto per semplificare. Stessa cosa, questa regolamentazione degli affari, dei servizi concedenti ai trasporti e comunicazioni, la posso rinominare? La possiamo rinominare grandi imprese, regolamentazione e trasporti, perché abbiamo visto che c'è l'ANAS, abbiamo visto che c'è l'ENAV, rete ferroviaria. Sì, qui ho sbagliato, no è giusto. Quindi abbiamo queste tre categorie che adesso sono molto più leggibili, quindi abbiamo già un'idea più chiara di come si suddivida questo dataset, però purtroppo ne abbiamo 872 bianche. Cosa faccio? Devo vedere quali sono. Quindi dal Faceit seleziono questo blank e se avete aperto il Faceit dei soggetti attuatori, se non ce l'avete aperto apritelo, vedete che ce ne sono, di queste 800 e passa, ce ne sono 224, cioè ci sono 224 modi di categorizzare queste 872 righe e quindi 39 righe saranno acquedotto pugliese, esatto. Però io posso decidere ad esempio, scorrendo vedo che ci sono un sacco di comuni. I comuni io li farò orientare ovviamente in amministrazione pubblica. Come faccio a selezionare solo ed esclusivamente i soggetti attuatori che iniziano con la parola comune? Faccio una cosa molto più classica. In soggetti attuatori inserisco un text filter, quindi un filtro di testo, molto semplicemente, alla maniera classica e dico, cliccando su text filter, dico, scrivo comun, neanche comune, ho scritto comun, scrivo comun e non comune perché mi ricordo che c'era un'altra cella scritto comuni, per cui tutti questi che sono 521, quindi ho già un bel passo avanti, posso semplicemente selezionare lì come amministrazione pubblica e guardate come faccio. Basta andare su edit, in questo caso ho blank 521, sono quei 521 campi che nel campo soggetti attuatori contengono la parola comune di edito con amministrazione pubblica. Potrei fare un copia in colla ma ho solo una mano. Andrea vi sta facendo vedere come utilizzare Google Refine sostanzialmente per ricategorizzare delle informazioni come più vi piace. Se voi volete soltanto distinguere i soggetti attuatori che sono amministrazioni pubbliche, sapendo che lì dentro avrete un misto tra comune, province e regioni da soggetti di altro tipo, un metodo per farlo è quello di cercare di semplificarvi l'informazione. Abbiamo visto prima con dei cluster, laddove cose scritte in maniera molto simile possono essere individuate e standardizzate, poi dopo i cluster andando a cercare le informazioni da altre parti, in questo caso ad esempio aiutandovi con la classificazione Ateco facendo un merge da un altro file, quello dei soggetti, oppure adesso guardando, dato che non ci interessa quale comune è, guardando che abbiamo tanti comuni per i quali non c'è rimasta nessuna classificazione, non c'è stata resa evidente dalle precedenti elaborazioni e quindi li rinominiamo tutti, gli diamo un Ateco, anzi, che è lo stesso di amministrazione pubblica, una categoria che abbiamo già individuato. Come notate l'approccio per ripulire dei dataset che contengono grossi moli di dati è molto empirico e richiede un grosso spirito di adattamento, quindi provare tutte le strade, provare tutti i metodi, non c'è sempre un metodo che funziona sempre, ad esempio di solito mi trovo benissimo con la funzione cluster, riesco sempre a trovare e a normalizzare il tutto, in questo caso non è servita, quindi ho dovuto trovare degli stratagemmi, però quindi un approccio molto empirico è provare tutte le opzioni possibili. In questo caso come vedete ho risolto tutto il problema delle celle bianche, non ne ho più, però vi faccio notare che è ancora selezionato e quindi ho zero celle selezionate nel mio dataset. Io vi ricordo sempre che è meglio fare un reset all e ritorno alla situazione iniziale, 3017 o ancora come vedete in Ateco 351 celle bianche. Devo risolvere anche questa situazione, seleziono queste 351 e andando a vedere in soggetti attuatori, noto che ci sono le province e le regioni e la regione, anzi poi ci sono, la regione rientra anche quelle in house, esatto, quindi sempre dal filtro che ho lasciato di soggetti attuatori scrivo, il filtro vi ricordo che bisogna andare nel campo che vogliamo filtrare, menu text filter e vi aprirà questo filtro qua, quindi scrivo province, anche qua non scrivo province anche se c'è solo questo e come vedete mi ha trovato 7 province che io andrò a mettere in amministrazione pubblica, ci vuole oltre che un approccio empirico ho anche molto olio di gomito, faccio reset all, ok, in realtà non mi ha preso, no non ho preso reset all, io per primo, ok, reseleziono adesso, ne ho 272 celle bianche, devo andare avanti in perterrito e vediamo tante ASL, anche queste qua, ASL e azienda, anche queste qua le far rientrare in ASL, quindi queste 5 possiamo trovare una nuova categoria, per queste 5 qua che ho selezionato tramite aziende sanitarie, inauguro una nuova categoria che chiamo aziende sanitarie, ok, quindi ho fatto la modifica, reset all, ho ancora 267, bisogna andare avanti così, però abbiamo la regione che va in amministrazione pubblica quindi regione, quindi regione, me ne ha trovato 11 e continua a fare questa roba purtroppo di cambiare archidiocesi, archidiocesi, amministrazione, quindi, archidiocesi è una nuova categoria, non so perché, non l'aveva trovato, non l'ho selezionato con le bianche, quindi ogni volta, quando voglio risolvere le celle bianche, selezionarle, e abbiamo aeroporti e porti, quindi aeroporti, sono aeroporti, è un lavoro un po', no, sbagliate la cosa che devo fare Sappiate che quando lavorate sulla pulizia dei dati, questo è l'investimento più grosso che fate in genere sui dati, è normale, non è che non sia normale dover spendere delle ore di tempo spesso per pulirli i dati, questo qualsiasi sia la tipologia di attività di analisi che svolgete, proprio perché l'opportunità in questi dati, adesso a parte la sporcizia, è che voi state cercando di categorizzarli come volete voi e quella informazione è proprio il valore aggiunto a tutta, questo lavoro è proprio il valore aggiunto a tutta l'informazione che voi già avete, quindi è normale spendere parecchio tempo nella fase iniziale di qualsiasi progetto a cercare di capire i dati cosa significano, come si intrecciano con altre fonti di dati, quindi questi problemi, che cosa posso mettere insieme per fare dei merge, quali sono i campi chiave e come effetto delle pulizie e delle ricategorizzazioni tutto sommato uno strumento come Google Refine è abbastanza performante perché vi rendete conto che vi riesce a trovare già tante associazioni a facilitarvi questo lavoro di rietichettatura per avere l'etichetta più pulita o quella secondo il vostro criterio classificatorio, ma questo è normale che va speso tempo per fare questa tipologia di attività qualsiasi cosa fate sui dati, quando uno ha individuato bene un progetto e lo vuole ripetere nel corso del tempo voi vi dite giustamente adesso me li sono puliti tutti, fra due mesi mi arrivano i nuovi dati di open coesione magari io ho prestabilito in una infografica, in una cosa che voglio che si aggiorni nel corso del tempo tutto un percorso che ho fatto diciamo adesso, come faccio, ma che me lo devo rifare da capo, da capo? La risposta? Appunto la risposta è trovare dei processi di lavoro, comunque delle categorie già prestabilite è di ripercorrere quel percorso in maniera molto più veloce, molto più pulita Un'altra cosa che diventando più performanti all'interno del processo, con un po' di codice informatico semplice queste cose le potete far fare tutte in automatico Adesso noi che stiamo imparando a lavorare con questi dati su Google Refine tutte le operazioni le facciamo in maniera molto manuale ma se uno ha bene individuato un percorso di operazioni standardizzate da svolgere ad ogni passo può trasformare queste cose che noi stiamo facendo in maniera manuale in un breve codice informatico che Google Refine vi esegue automaticamente ogni volta che c'è un nuovo dataset uguale a quello che gli avete presentato la prima volta questo vi consente a quel punto di fare degli aggiornamenti semi-automatici magari non saranno mai totalmente automatizzati perché nel nuovo dataset che importerete esisterà una situazione diversa rispetto a tutte quelle che avrete incontrato qui però il grosso del lavoro non avete bisogno di ripeterlo perché lo potete conservare in codice e farlo rieseguire Oppure esistono anche dei software che se non volete usare del codice hanno un'interfaccia grafica come Pentaho Data Integration che è un ETL, cioè un processo di lavoro continuo che si basa su preimpostazioni che voi date la funzionalità è simile a Google Refine però è meno dinamico è più improntato sull'esecuzione continua di alcuni programmi però se voi standardizzate certe procedure potete riuscire ad andare avanti anche senza scrivere del codice che posso capire sia tutto un altro discorso Comunque siamo arrivati a 33 scelte quindi siamo quasi alla fine della pulizia Come vedete trovo ad esempio il porto, i porti che era in grandi imprese li avevo trovati un po' qua quindi io me lo copio Se a voi interessava invece di individuare i porti dovete fare una nuova etichetta porti e andare a vedere se non fossero già stati categorizzati da qualche altra parte Ok, e diciamo siccome adesso tra le bianche le reseleziono sono 245 però ho solo 30 scelte posso fare una cosa sono 30 scelte e sono abbastanza poche di selezionarmi via via quelle che voglio categorizzare cliccando su includi per esempio io prendo tutti gli acquedotti che secondo me gli acquedotti possono stare in amministrazione No Ok, grandi imprese anche questa Centro Euro Mediterraneo Vediamo cosa ci può stare ancora Consorzia Azi qui bisogna comunque fare anche delle ricerche delle volte per capire un po' a cosa si riferiscono Questo ente inserisco sempre quegli acquedotti questi non so cosa si RFI credo che siamo tutte le reti ferroviaria quindi si può prendere dentro le grandi imprese dove le abbiamo messe poi dopo vedo varie cose di misteri che potremmo mettere nelle amministrazione Sì, quindi scendiamo più tardi RFI ancora vedo vedo se lo vedo RFI scritto in altre maniere lo vedete RFI compare scritto in tante maniere diverse questione di pulizia di nuovo dei dati ok quindi questi qua io li ho selezionati come vedete cliccando su includi e per categorizzarli nel grandi imprese io questo clicco edit solo per copiarlo sono 62 e sono grandi imprese regolamentazione di trasporto allora soltanto per ricordarvi le cose che dovete controllare per sapere se state operando bene andremo a far vedere due modalità con cui dare una nuova etichetta categoria a questi soggetti la prima basata sulla funzione trova dove sostanzialmente trovate tra tutti i nomi possibili di soggetti quelli che hanno ad esempio scritto comune no? con la funzione trova quest'altra è un'altra modalità cose che non si somigliano tutte quante quindi non le puoi fare trovare controvi le vai a selezionare una o una nella lista due modalità diverse per rietichettare le categorie no? e qui controllate sempre bene nella schermata nella parte della schermata di destra dove vi dice quante righe quanti progetti state rietichettando questo per voi è sempre importante controllarlo perché quando lì c'è scritto 3017 sapete che avete la totalità qui siete sicuri che avete fatto una sottoselezione perché ne avete soltanto 62 quindi sta per rinominare in grandi imprese regolamentazioni trasporti 62 di quelle righe che poi potete anche guardare velocemente nella riga qua nella colonna qua soggetti attuatori sono più o meno quelle quindi faccio apply e ogni volta che faccio questo lavoro reset all vi consiglio per non fare degli errori perché magari è molto facile aver selezionato una categoria in un face it e non ce ne siamo accorti quindi continuo a prendermi le bianche che sono diventate 163 22 scelte quindi ci stiamo avvicinando allora qui noi adesso per fare più veloci possiamo anche decidere di mettere tutto in alto esatto in realtà non faremo un buon lavoro perché voi vedete dai nomi che qui è rimasta qualche ASL quindi la dovremmo mettere tra le aziende sanitarie è rimasto ANAS che dovremmo mettere tra le regolamentazioni le grandi imprese di regolamentazione sono rimaste delle università no? quindi diciamo noi adesso per certificare il lavoro facciamo una categoria altra sappiamo che è sporca è solo ai fini dell'esercitazione in realtà dovremmo andare questi qui a categorizzarlo nella categoria giusta ok? ma facciamo altro così possiamo far vedere altre tipologie di lavori che si possono fare con Google Repart poi voi riproverete potete riprovare questa tipologia di energizzazione con le ottime slide che Andrea ha preparato e che passo passo vi danno delle indicazioni su come fare esatto quindi adesso abbiamo 0 celle bianche reset all e troviamo che più o meno la distribuzione delle categorie è questa se io faccio per conto sono soprattutto amministrazioni pubbliche e altro vabbè l'ultima roba che abbiamo trovato grandi imprese sono 75 aeroporti 11 aziende sanitarie 5 che cosa ci dice questo patto? che probabilmente la categorizzazione che abbiamo scelto noi questa qui queste 5 categorie non è la più efficace per rappresentare il fenomeno che cosa vuol dire? il fatto di avere una categoria di amministrazioni pubbliche così grandi predominanti rispetto a tutte le altre a meno che noi non abbiamo una domanda molto precisa che è proprio quante sono le amministrazioni pubbliche non ci è molto utile per scrivere una storia su questi dati ci dovrebbe far correre il problema dirci ma queste amministrazioni pubbliche che abbiamo messo tutti qui dentro sono tutte uguali o non è più interessante a questo punto dover dare un'informazione in più per esempio avere una categoria specifica per i comuni una specifica per le province una specifica per le regioni ok? allora analizzare i dati esplorare i dati analizzarli per poter poi raccontare dei fatti presuppone dal vostro punto di vista non soltanto quello di dotarvi di una serie di strumenti come quello di Google Refine e fare pratica per sfruttare la sua potenza di calcolatore al meglio facendo tutte queste cose ma anche quello di capire meglio il tema su cui state ragionando e spesso guardando la categorizzazione potete imparare che forse non avete approfondito abbastanza quindi ad esempio una classificazione dove quasi tutta l'informazione in un'unica categoria vuol dire che la classificazione non è ben fatta vi conviene cercare di vedere che cosa c'è dentro e capire se non sia meglio esploderlo diversamente è chiaro il concetto? comunque fa parte del lavoro di esplorazione dei dati noi siamo partiti non conoscendo la banca dati poi pian piano raffinandola lavorandoci dentro ci siamo fatti questa prima idea attenzione non conoscendo la banca dati e conoscendo molto poco sul tema che è quello delle infrastrutture non c'è niente da fare per uno che vuole raccontare delle storie sui dati non basta pensare che i dati tireranno da fuori da soli delle storie certamente ci possono essere tante storie dentro questi dati ma se uno si vuole occupare di infrastrutture è bene che si informi un po' su in Puglia che tipologia di infrastruttura diciamo ci sono chi sono i grandi player delle infrastrutture qual è il dibattito che ruota intorno alle infrastrutture in Puglia perché altrimenti rischiamo di raccontare delle storie ingenue oppure delle storie che francamente non hanno interesse i giornalisti non hanno bisogno di diventare dei tecnici cioè non sono loro che devono sapere esattamente come funzionano tutti gli appalti per le infrastrutture per esempio però devono cercare di capire sono dei soggetti intermedi che devono cercare di capire alcune cose per raccontarle al meglio uno non può pensare che non investe anche un po' di tempo a capire il tema ok comunque andando avanti noi possiamo pensare che abbiamo pulito abbastanza il nostro dataset vogliamo andare a un'analisi dei dati più classica quindi basandoci sulle metriche e sulle statistiche però per farlo analizzando il dataset ci serve anzitutto una misura numerica una variabile numerica che in questo caso sono quelle che noi troviamo nei finanziamenti però c'è un problema e il problema è la diciamo la tipologia classica diciamo il valore metrico i decimali che utilizzano gli inglesi con quelli che utilizzano gli italiani in questo caso Google Open Refine è un soft sviluppato in America e a quanto pare non riesce a riconoscere come dei numeri i valori che hanno come decimali che sono separati dalla virgola voi vedete abbiamo il valore monetario del finanziamento totale virgola zero zero gli euro allora bisogna trasformare quella virgola in un punto affinché Google Refine possa capire che è un numero allora cliccando sul menu a sinistra possiamo editare tutte le celle selezionate di questo campo attraverso delle trasformazioni le trasformazioni utilizzano il codice Aggril però ci sono anche delle trasformazioni molto frequenti che i sviluppatori di Open Refine hanno messo in automatico e ad esempio convertire in numero un valore testuale se io clicco su Common Transform Transform e To Number in teoria dovrebbe trasformare in numero però in questo caso non so perché non mi ci riesce allora cosa faccio questo purtroppo l'ho dovuto fare pensavo di non doverlo fare ma devo di nuovo utilizzare il codice allora qua è giusto l'ultima volta che lo utilizziamo il codice giusto per farvi capire come funziona allora il codice di solito in second value quindi il valore come vedete nell'anteprima semplicemente ricopia il valore che ha trovato nella cella se io le aggiungo un'opzione che si aggiunge con un punto e il nome dell'opzione che in questo caso è Replace quindi stiamo scrivendo una formula per dirgli di sostituire Replace quando io scrivo una formula con un'opzione devo sempre aprire e chiudere la parentesi però gli ho dato semplicemente Replace cioè sostituiscimi il valore però non gli ho detto che cosa fare e dentro le parentesi gli dico che cosa fare sostituiscimi il punto con la virgola però quando io gli dico sostituisci il punto la virgola con il punto la virgola con il punto devo sempre aprire le virgolette quindi sostituiscimi la virgola aperte virgolette e chiusi virgolette quindi gli ho detto sostituiscimi la virgola con cosa? per dargli un'altra operazione devo mettere una virgola con un punto quindi aperte virgolette punto chiuse virgolette e voilà vedete nella preview nella schermata di sotto mi fa vedere come ha iniziato l'operazione mi permette questo di controllare se l'operazione è stata fatta così come ve l'aspettavate effettivamente ha sostituito quella virgola con un punto esatto e in questo caso vi consiglio sempre di salvare questa formula perché vi può essere utilissima anche per modificare gli errori di codifica se io ho un errore di codifica ad esempio una accentata male me la fa visualizzare in quei caratteri strani io dico sostituiscimi col carattere strano con una accentata e quindi questo lo fa molto velocemente una volta che ho il punto non mi ha ancora riconosciuto che questo campo è un campo numerico allora rifaccio quello edit cells common transform to number è diventato verde quando è verde è un numero ok quindi siamo pronti per l'elaborazione l'ultima cosa che voglio far vedere è l'esportazione di questo progetto in un altro file quindi se io clicco su export posso decidere in quale modalità in quale tipo di file esportarlo ci sono tutti diciamo tutti i formati quindi i csv i tsv gli excel però c'è una cosa molto interessante e questo voglio farvela vedere è questo custom tabular exporter che secondo me è una cosa molto interessante anzitutto perché è interessante perché posso decidere quali campi e in che ordine esportarli quindi se io non voglio prendere il finanziamento privato e il finanziamento da reperire ad esempio che ho visto che non c'era molto in questo caso posso toglierli ma soprattutto posso decidere se lo voglio salvare in csv in che tipo di con quale separatore usare e poi con quale codifica utilizzare questo è molto utile nel caso voi vogliate esportare dei data set in maniera standard per poi fare quel lavoro che stava dicendo a lean di rifare il lavoro automaticamente attraverso del codice o attraverso software che vi aiutano quindi state imponendo il vostro standard in questo caso io lo uso semplicemente così e mi scarico un excel ok e lo scarico su download e ho il mio progetto excel detto questo per fare delle elaborazioni molto veloci vi ho detto di scaricare il libro office che è un foglio di calcolo come excel in tutto e per tutto dove posso fare delle piccole veloci elaborazioni statistiche sul mio data set anzitutto ho problemi di visualizzazione che risolvo selezionando tutte le celle e facendo sto lavoro qua ho un data set pulito filtrato dai campi che mi interessavano però voglio ricavarne delle informazioni numeriche quindi delle statistiche qual è la statistica più semplice diciamo l'elaborazione più semplice da utilizzare è creare delle tabelle delle tabelle di contingenza che mi riassumano più o meno tutta questa mole di dati disaggregati come fare su LibreOffice sia su LibreOffice che su Excel c'è una funzione che si chiama tabella pivot e che funziona semplicemente selezionando tutti i valori che voglio inserire in questo caso in LibreOffice si va su dati ho selezionato tutti i dati che mi interessavano tabella pivot crea selezione attuale vuol dire i dati che ho selezionato e questo è molto interessante perché mi permette di creare delle tabelle in maniera molto rapida mettendo in testato infiancata tutte le variabili che voglio io in questo caso ho visto che voglio calcolare il finanziamento totale di questi progetti per inserire la variabile di elaborazione la devo inserire su questo campo dati finanziamento totale e mi darà la somma del finanziamento totale se io vado su ok vedrò che ho tutto questo molle di dati che sono miliardi di euro per modificare perché questa è un'informazione ultra aggregata che non mi dice niente voglio modificare la tabella pivot clicco sul destro modifica il layout inserisco le variabili che voglio incrociare anzitutto la teco anche se il nome non è molto buono le categorie che abbiamo individuato per i soggetti le categorie le metto in testata perché erano poche però come ha detto Alin l'informazione non era un gran che perché tutte le categorie riguardavano l'amministrazione pubblica per cui io tirerei fuori poche informazioni quindi quando si vuole andare un po' più nel dettaglio è sempre meglio incrociare le variabili per cercare di andare più in profondità in questo caso non so metto dps titolo progetto dps tema sintetico e beh un po' cosa succede e ho una tabella che mi dice ad esempio dei 7 miliardi mi sembra sono investiti nelle infrastrutture in Puglia ci aiuta a capire quali grandi soggetti attuatori sono coinvolti in che tipologia di progetti cioè qual è il tema di quel progetto se si tratta effettivamente di trasporti come ce l'aspetteremo eventualmente quando sono gli aeroporti quando sono le aziende sanitarie ci potremmo chiedere ma come mai ci sono delle aziende sanitarie nella sezione delle infrastrutture beh vediamo che quelle si occupano tutte di inclusione sociale magari sono delle infrastrutture ospedaliele questo potrebbe no potrebbe essere questo ci consente sia un'altra esplorazione dei dati ci dà delle piste interpretative per capire che cosa è interessante andare a vedere in questi dati sia una rappresentazione sintetica appartenendo a quel mondo dell'analisi diciamo più macro esatto perché io ad esempio vedo le aziende sanitarie sono tutte nell'inclusione sociale ma mettiamo che per caso trovassi un'azienda sanitaria che non so va su agenda digitale che ha ricevuto i finanziamenti per agenda digitale e dico questo mi sono un po' strano voglio andare un po' a vedere dentro ok adesso non è questo il caso però cliccando due volte sul valore io ho filtrato diciamo quel valore lì a cosa appartiene quindi tutte quelle aziende sanitarie si occupavano di inclusione sociale e posso andare a vedere proprio il record così com'è in maniera molto veloce sì in questo caso il titolo del progetto non oh sì che lo dovrebbe far vedere eccolo benessere salute e poi e vedete infatti è la costruzione di un nuovo ospedale nella città di Taranto piuttosto che l'adeguamento sismico al plesso probabilmente di un ospedale maternità mi sembra che sia scritto lì giù in fondo quindi piuttosto che la realizzazione c'è il centro grandi ostioni quindi questi sono stati messi dentro la categoria inclusione sociale sono delle infrastrutture effettivamente che riguardano il mondo diciamo ospedaliero quindi non è strano che siano realizzati dalle aziende ospedaliere o dalle aziende sanitarie locali quello che non vi ha detto diciamo open coesione in questo caso quello che 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 questa informazione non vi ha dato e che magari è quello che vi interessa è vi direte sì va bene ho capito che stiamo investendo in Puglia nelle infrastrutture che riguardano anche la sanità pubblica la salute quindi con queste realizzazioni ospedaliere ma non abbiamo risolto il problema di capire ma chi ha vinto l'appalto fisicamente per fargli questi lavori questo perché la catena dei soggetti in un progetto tipicamente in un progetto infrastrutturale è molto lunga paradossalmente vedete dentro open coesione voi avete alcuni dei progetti potete individuare esattamente fino all'ultima persona che è stata coinvolta nel finanziamento per esempio le borse di studi dove la catena è molto corta la catena è la regione il programmatore fa un bando futuro non mi ricordo come si chiamava ritorno al futuro fa un grande bando che sarà per finanziare delle borse di studio qui il soggetto attuatore della borsa di studio è la persona che ha vinto la borsa di studio e quindi è anche l'ultima persona coinvolta in qualche maniera nel finanziamento la catena è molto corta e noi riusciamo a individuare con molta precisione chi è stato responsabile dei soldi chi ha selezionato in questo caso all'interno del bando i vincitori in questo caso la regione il soggetto programmatore e fino all'ultimo destinatario perché c'è una catena molto corta tipicamente nelle infrastrutture la catena è molto lunga perché vedete c'è per esempio la regione che decide all'interno del programma per la parte di investimenti infrastrutturali di puntare su la rivalorizzazione del settore ospedaliero che in alcuni casi ne ha bisogno e il soggetto attuatore qui non è l'azienda che realizza il lavoro non è il costruttore ma è l'azienda ospedaliera che è un soggetto diverso dalla regione che riceve questi soldi per realizzare il progetto noi saremo interessati a quel punto di andare a vedere magari presso l'azienda ospedaliera coinvolta sul suo sito da altre parti di racimolare le informazioni sugli eventuali appalti che lei ha fatto per ingaggiare delle imprese per fare la costruzione di cui aveva bisogno ok quindi ricordatevi che a seconda di qual è la vostra vera domanda e a seconda di qual è il settore vi sarà più o meno facile trovare la risposta solo in questi dati oppure dovrete andare ancora più a fondo per esempio mi viene in mente quando noi abbiamo fatto il monitone sui beni confiscali noi per esempio dai dati che avevamo sui finanziamenti fatti da Open Cohesione ovviamente abbiamo individuato dove fosse il bene da monitorare il soggetto attuatore in quel caso era la regione Puglia perché ha fatto il fatto libero il bene per cui ha finanziato alcuni di questi progetti di riutilizzo dei beni confiscati e poi quando siamo andati lì appunto alla ricerca delle informazioni abbiamo saputo qual era stata l'impresa che aveva realizzato i lavori secondo certi criteri e anche altre informazioni aggiuntive su quali per esempio fossero i meccanismi per scegliere le imprese che potevano realizzare i lavori lì che dovevano essere per esempio in questa white list delle aziende antimafia eccetera quindi abbiamo avuto tutta una serie di informazioni aggiuntive relative a quel particolare progetto e a quel territorio però appunto la ricerca è partita dal macro progetto quindi poi è ovvio che alcune volte serve andare a verificare ad aggiungere informazioni però il bello è che riesci comunque ad arrivare al micro alla localizzazione di dove quel progetto è stato realizzato da questi dati macro una cosa però sempre a livello macro che già questa tipologia di elaborazione vi può essere utile a cercare di raccontare tramite la tabella pivò è che noi su questo possiamo fare delle percentuali no e quindi possiamo cercare di capire la strategia delle infrastrutture su cui stiamo investendo in Puglia su che cosa punta di più no cioè i soldi 2007-2013 stanno investendo di più in aeroporti o più in ospedali stanno investendo di più in porti o in qualcos'altro allora un po' queste informazioni macro ci aiutano a rispondere a questa tipologia di domanda qual è la strategia generale della regione per le infrastrutture piuttosto che per un'altra cosa sì quindi sintetizzare le informazioni per avere una visione d'insieme più chiara su tutto il fenomeno in questo caso come diceva l'in e i valori assoluti non ci danno una grossa mano perché sono di difficile lettura a parte che sono dei numeri molto lunghi sono milioni di euro quindi è giusto anche semplificare e usare delle percentuali la tabella tipivo le può fare automaticamente se clicco sul destro modifiche layout posso dire questa somma del finanziamento totale che è la metrica che sto utilizzando come la voglio anzitutto voglio una somma e va benissimo perché essendo dei numeri giusto che vadano sommati però questo più mi dice che tipo di somma di che tipo di valore devo visualizzare e io direi una percentuale come vedete ci sono diverse percentuali c'è la percentuale di riga la percentuale di colonna e percentuale del totale percentuale di riga semplicemente mette il 100% che è il totale della riga infiancata a destra percentuale di colonna è il 100% giù il percentuale del totale come vedete adesso lo farò vedere ok mette il 100% qua e noi possiamo vederci tutte le categorie come vengono ripartite ma anche il DPS tema sintetico come viene ripartito e vediamo che nelle infrastrutture si spende molto in trasporti e in ambiente esattamente in trasporti e in ambiente possiamo vedere che mentre nel caso dei trasporti sono soprattutto le grandi imprese che giocano invece nel caso di ambiente sono soprattutto le amministrazioni pubbliche questo non ci deve scoprire perché se noi appunto ci approfondiamo anche i contenuti che stanno dietro a tutte queste politiche vedremo che sicuramente qui per la protezione dell'ambiente sono molto i comuni che intervengono direttamente quindi la regione dà ai comuni i soldi che hanno le competenze nel nostro ordinamento per questa tipologia di funzioni e i comuni saranno responsabili di andare a far riparare le frane piuttosto che cose di questo tipo perché ambiente mi immagino che sia la prevenzione di questa tipologia di cose che sono spesso sotto la responsabilità dei comuni quindi non ci deve stupire però vediamo che non è solo lì quindi questo ci potrebbe porre altre tipologie di domande e forse un'altra cosa che può essere di nuovo vediamo quello che avevamo già visto a occhio è che qui le amministrazioni pubbliche raccolgono da sole più del 59% della distribuzione del fenomeno che stiamo analizzando quindi forse quella categoria è meglio esploderla perché così non è molto informativa condensa troppe cose diverse e quindi è un indizio di nuovo su come fare l'elaborazione ancora ci potremmo fare la seguente domanda va bene posto che qui i trasporti rappresentano complessivamente 36% dei finanziamenti e l'ambiente ne rappresenta circa 21 sono veramente comparabili queste categorie dal punto di vista finanziario fare un'autostrada ad esempio di solito coinvolge dei costi simili rispetto a quelli di riparare una frana potremmo in questo caso essere interessati non soltanto a guardare le percentuali per trovare una serie appunto di storie ma andare a vedere le unità diciamo di finanziamento per progetto cioè capire la dimensione medio di un progetto stiamo finanziando dei progetti che hanno una dimensione finanziaria simile o diversa forse a volte è diversa perché sono delle cose difficilmente comparabili o comunque all'interno dei trasporti nuovamente ci potremmo chiedere il finanziamento pro progetto la dimensione media di un progetto quant'è sono tutti dei finanziamenti molto grossi o sono dei finanziamenti molto vari fra piccoli e grossi perché se sono molto diversi fra loro di nuovo è un indizio per andare a esplorare meglio che cosa c'è sotto magari non sono proprio delle cose uguali ci sono delle altre categorie che andrebbero evidenziate questo nell'interpretazione esatto per darvi delle piste su come analizzare i dati analizzare i dati non è soltanto un'operazione computazionale cioè non è soltanto essere in grado di fare dei calcoli come stiamo facendo avvalendoci di una serie di strumenti ma è essere in grado tramite quei calcoli a evidenziare delle interpretazioni per esempio spero di non dire di nuovo una cosa che non c'entra niente come prima però per esempio sui trasporti in particolare lì è anche da tenere presente che a volte sono progetti cioè noi abbiamo analizzato dei progetti regionali però a volte sono pezzettini giusto e i finanziamenti dei trasporti per esempio sulla linea ferroviaria a vari Napoli cioè noi abbiamo cioè per la Puglia non abbiamo il totale qui noi abbiamo preso il totale del finanziamento questo dipende dalle variabili che uno seleziona nella prima selezione quando ci siamo importati il file avevamo tante variabili finanziamento UE il cofinanziamento nazionale la cui variabile si chiama finanziamento fondo di rotazione perché da noi dal punto di vista del meccanismo finanziario quello è su un fondo di rotazione questo poco importa poi c'era finanziamento regione poi c'era altri finanziamenti pubblici altri finanziamenti privati quindi avremmo potuto non abbiamo tenuto questo dettaglio ci siamo conservati soltanto l'informazione sul totale quindi noi abbiamo lì effettivamente il finanziamento totale quello forse che tu cercavi di dire non è tanto legato al problema del finanziamento che riusciamo invece bene a monitorare tramite open coesione quali sono le diverse fonti per uno stesso progetto ma è che tipicamente di nuovo un progetto infrastrutturale molto grosso si svolge spesso secondo delle fasi quando si costruisce un'autostrada non sempre si costruisce la Salerno Reggio Calabria tutta ad un tratto il finanziamento spesso riguarda si dice dei lotti ovvero si individuano dei tratti più piccoli allora di nuovo dipende molto da qual è la tua domanda non è che è sbagliato dire sto guardando solo il lotto o sto mettendo insieme tutti i lotti di una stessa autostrada dipende che cosa stai guardando ricordiamoci che il progetto in sé è una dimensione molto difficile da capire se non ci occupiamo di una materia specifica perché è chiaro che se tu finanzi una borsa di studio un progetto ha delle caratteristiche totalmente diverse rispetto a se tu finanzi un'autostrada quindi quando li mettiamo insieme dobbiamo sì quando guardiamo degli ammontari finanziari ci permette di fare tutta una serie di informazioni di confronti come l'avete visto le fanno peraltro nel mondo intero abbiamo visto altri siti così via di seguito che sintetizzano le informazioni così ma dipende da qual è diciamo quali sono le cose a cui tu sei interessato io personalmente credo che uno dei motivi per cui non abbiamo tante storie che sono state raccontate fino ad oggi con i dati di open coesione uno dei motivi è che sicuramente esiste tutta una comunità di persone che sarebbero interessate ad utilizzarli ma non hanno competenze informatiche di calcolo sufficienti e quindi in questo senso contributi come quelli di imparare a utilizzare google refine piuttosto che a utilizzare libre office eccetera eccetera consentono a molte più persone di avere quegli skills perché tipicamente ad esempio i giornalisti non ce l'hanno i giornalisti si sono laureati spesso in materie che non hanno niente a che fare con l'elaborazione dei dati quindi hanno bisogno di acquisire una strumentazione semplice per poterli elaborare ma un altro imprescindibile diciamo skill che serve è quello che riguarda la materia di contenuto se no è chiaro che non si possono raccontare tante storie uno dei motivi per cui non abbiamo tante storie raccontate su open coesione che a parte i centri di ricerca la banca d'italia IFEL il braccio diciamo di ricerca dell'ANCI l'associazione nazionale dei comuni che hanno iniziato ad utilizzare in maniera massiva questi dati perché hanno delle domande specifiche da chiedere a questi dati molti altri che sarebbero interessati in generale non si interessano sufficientemente alla materia né a quella delle politiche di coesione né allo sviluppo locale dei territori né all'istruzione né a nessuna delle altre materie servono delle persone per interpretare questi dati che spendono anche un po' di tempo e di investimento nel capire la materia allora la materia qui ce ne sono tantissime la materia può essere finanziamenti dell'Unione Europea come funzionano a che cosa sono destinati tipicamente facendo delle infografiche o dei siti come quello che abbiamo visto del Guardian e della BBS rispondono a un tema generale che può essere più specifico per il caso italiano l'Italia come investe i soldi dell'Europa questo già è un tema ma uno si deve un po' interessare di capire perché l'Europa investe questi soldi e quali sono in Italia già le regole del gioco se no di che cosa scrive c'è un investimento qualsiasi sia la domanda nella materia mi voglio di occupare di infrastrutture in Puglia bene in Puglia si litiga di più sul fatto che bisogna fare aeroporti o sul fatto che bisogna fare porti esistono dei luoghi credo che vi sia stato anche recentemente proprio sulla Puglia tutta una serie di grandi dibattiti che riguardavano l'infrastruttura in Puglia sugli aerei low cost localizzazioni di aeroporti turistici diciamo in Puglia allora uno deve partire dall'avere delle domande di merito uno non può pensare che le storie escono dai dati soltanto perché i dati hanno tante informazioni possono uscire delle storie appunto che rimangono a un livello molto aneddotico che vanno bene per fare altre cose sono quelle le micro storie di Moniton non so niente di beni confiscati alla mafia non so niente di parchi naturali però vado in un posto perché sono interessata a questo tema e riesco a aggiungere delle informazioni se no non esisterebbero racconto faccio una relazione permetto quindi ad altri su questo di farsi delle opinioni perché io vedo delle cose la differenza è questa quando vedete l'app di Meteo.it che uno si può scaricare sul telefono esiste un'informazione che è quella che vi dà Meteo.it che vi dice le previsioni del tempo a livello provinciale vi dà una serie di informazioni e poi loro consentono un crowdsourcing dove qualsiasi utente che si inserisce su questa piattaforma può mandare un messaggino e dire che temperatura fa esattamente come è il cielo in quel momento a quell'ora nel posto in cui è ok il macro e il micro le due cose hanno delle valenze diverse ci servono per scrivere cose diverse per interessarci a argomenti diversi è chiaro che se io sto per venire a Bari e vengo da Berlino come il nostro amico Nicolas e mi chiedo che cosa mettere nella verigia sperando che gli aeroporti di Bari non me la perdano no? ecco allora vado a vedere ad esempio ma che tempo fa a Bari fa più caldo o più freddo che a Berlino c'è il sole o c'è la pioggia e così mi preparo la valigia bene è chiaro che io guarderò forse tutte e due le informazioni ma è chiaro che io non è che se Chiara manda il messaggino su meto.it alle ore 10 e 30 a Bari spende il sole e fa 20 gradi questo probabilmente non è sufficiente per orientare la mia decisione in quel momento no? l'informazione che mi dà Chiara è un'informazione che mi può interessare ma non è diciamo sufficiente per fare la mia valigia perché appunto il tempo cambia e Chiara non è improvvisamente diventata una meteorologa non è che lei è diventata il mestiere del meteorologo Chiara sta facendo un'operazione di crowdsourcing che permette di aggiungere informazioni a quello che il meteorologo ha già dato ok quindi tornando al discorso del trattamento dei dati abbiamo visto che con le percentuali riusciamo a capire meglio ancora le situazioni ma per rendere le cose ancora più semplici e chiare molte volte occorre anche rappresentare questi dati graficamente io ho fatto un esempio molto velocemente ovviamente ognuno ci si può si può sbizzarrire poi magari nella sessione che farete dedicata potrete esplorare tutte le possibilità io ho fatto semplicemente un grafico a barre con le diverse diciamo con le diverse categorie le diverse codiciate ecco io avevo fatto tre categorie non quante ne avevo fatte oggi però esistono diversi tool che possono diciamo fare esplorare anche i dati in maniera visuale questo potrebbe essere molto utile a seconda del tipo di dato che dovrete analizzare questo è solo appunto un esempio potreste sbizzarrirvi come più volete per il resto io dico che alla fine tutto come abbiamo detto più volte è finalizzato a raccontare una storia quindi a partire da queste informazioni bisogna raggiungere tutte le capacità che un giornalista di descrivere il fenomeno e di rapportarlo con la realtà e di rapportarlo con quello che è il sentito generale insomma fare un buon articolo a partire i dati sono un'ottima base per farlo io per quanto riguarda la parte pratica concluderei qui anche perché siamo diventati una maratona contro il tempo no una maratona anche diciamo per loro tuttavia se torni un attimo scusami sulle tue slide Andrea ha fatto un lavoro molto importante per consentire a voi di continuare un'esercitazione utilizzando Google Refine per chi ci segue in streaming o ci seguirà dopo scaricandoci queste slide di impratichirsi sull'utilizzo di questi strumenti tenete conto che generalmente per l'elaborazione dei dati spesso uno utilizza più programmi è molto raro che chi analizza dei dati si specializza sull'utilizzo di un solo programma perché ogni programma ha una potenza e un'efficacia diversa a seconda di quello che vi vuoi far fare no? il motivo per cui vi abbiamo presentato Google Refine è che nell'esplorazione dei dati Google Refine è molto molto potente uno strumento facilissimo da utilizzare anche quelle poche formule di codici vedrete che una volta che avete imparato due o tre cose da fare sistematicamente vi saranno facilissime e quindi per tutto quello che riguarda la sistemazione la prima esplorazione dei dati metterci delle categorie metterci delle etichette pulire degli alfanumerici sporchi fare le categorie vostre che rispondono ai vostri criteri al vostro punto di vista di analisi Google Refine è molto molto performante poi quando i dati li volete visualizzare perché poi volete fare un piccolo widget una cosa da mettere su un sito per poterli visualizzare anche in maniera interattiva dall'utente come questi grafici che vi ho appena fatto vedere Andrea naturalmente dovrete esportare da Google Refine e utilizzare un altro strumento quindi diciamo è normale doversi impratichire in almeno due o tre strumentini per esempio Google Refine per la pulizia per esempio Open Office Excel diciamo cose similari per fare delle tavole per fare delle percentuali per fare delle elaborazioni semplici diciamo su questi dati di elaborazioni chiamiamole di stampo macro statistico e poi un altro di visualizzazione quindi è tutto un percorso che si fa con diversi software magari con Refine ho iniziato a pulirlo con Libre Office l'analizzo poi con un altro tool di visualizzazione faccio delle visualizzazioni effettivanti tornando alle slide ci sono anche altre cose che non ho fatto vedere se ad esempio c'era il problema dei territori dove nel campo territori non avevo un solo territorio per cella ma delle volte ad esempio il progetto si protraeva su più territori e dalla query di Open Coesione abbiamo dei casi come questo dove i territori più territori sono concatenati da un separatore che sono questi tre o due punti ci sono delle funzioni in Refine che permettono di splittare questi campi sia orizzontalmente quindi creare tanti campi quanti sono i territori che trova ad esempio se trovate i territori li splitta in tre campi oppure un'altra molto carina è di splittarli verticalmente in modo da ottenere nuove righe basate su quello splitto in questo caso avevo usato le righe però magari guardate le slide con calma cercate di capire un po' tanto comunque sono tutte commentate e se non le capite studiate un po' e così vi stiga un po' a frugare un po' il software e per il resto direi che faremo tutto io vi ringrazio per io direi che possiamo chiudere giusto o volevate aggiungere qualcos'altro non so se qualcuna delle domande magari io vorrei dire che questo lavoro penso che sarà utilissimo per appunto per avere un quadro completo della procedura che un giornalista deve seguire per ricavare una storia dai dati all'utilizzo con open coesione ma anche per l'esempio appunto potrà essere indicativo per proprio capire il concetto potete avere uno strumento poi pratico anche grazie alle slide che abbiamo usato useremo i dati che abbiamo pulito e aggiustato probabilmente anche per il modulo di data visualization che sarà il 23 novembre io vi ringrazio per tutto il lavoro che è stato anche molto grosso al di là della lezione so che avete lavorato anche nei giorni precedenti insomma ci vediamo il prossimo incontro è l'8 novembre con le licenze e i dati come l'Aragone grazie a tutti al prossimo appuntamento grazie a voi grazie a voi grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti